Oggi un tema importante, un tema caldo, perché oggi si parla di come non impazzire all'università, ma in realtà questo è un titolo provocatorio, perché la parola impazzire, la parola pazzo, la parola matto, sono delle parole estremamente superate quando si parla di benessere psicologico e psicofisico. Oggi ho voluto portarvi un ospite veramente speciale, che vi introduco fra cinque secondi, che ci aiuterà a capire un po' che cosa sia il benessere psicologico e psicofisico per uno studente, per una studentessa, per qualcuno che è sottoposto a uno stress importante mentre impara qualche cosa. Parleremo di sostanze, parleremo di sonno, parleremo di abitudini, parleremo di un sacco di cose che possono rivoluzionare la nostra vita. E per farlo ho chiamato Valerio Rosso. Oh, eccoti qua, Valerio, ti vedono, ti sentono. Fantastico. Ciao ragazzi, grazie Ale per l'invito e ciao a tutte le persone che ci stanno seguendo. Grazie a te veramente per essere venuto e da un po' che seguo tra l'altro il tuo canale e poi tramite quel mascalzone di Rick Duferre alla fine siamo riusciti a metterci un po' in contatto ed è un piacere incredibile averti qui sul canale. Intanto psichiatra, divulgatore, youtuber, scrittore, poi ne parleremo fra poco. Valerio, se ti dovessi autospiegare a un pubblico che non ti conosce, come ti definiresti? Io sono una persona che dopo aver fatto molti anni come clinico tipico, quindi medico, psichiatra che lavora nel Servizio Sanitario Nazionale, ha iniziato a percepire una sorta di scollamento fra quella che è la medicina, chiamiamola ufficiale, la psichiatria ufficiale e le persone, la gente, la popolazione chiamiamola laica. Tutto questo mi ha portato ad iniziare a rispondere con un blog a molte domande che mi facevano i miei pazienti e poi mi sono reso conto che poteva essere ancora più efficiente, ancora più efficace utilizzare il video e il podcast come strumento di collegamento con le persone, proprio per fare in modo, come dico sempre io, di preriscaldare la gente all'incontro con le tematiche delle neuroscienze e della salute mentale che sono tutt'altro che complesse, perlomeno a livello superficiale. È possibile comprendere bene le cose. Oh, è fantastico questo, tra l'altro io ho iniziato la live, l'ho dato un titolo provocatorio proprio perché volevo titillarti, perché parte di questo scollamento di cui tu parli viene anche un po' da una serie di stereotipi, no? Allora, lo psichiatra è lo strizzacervelli, è colui il quale, insomma, lavora con i matti, con i pazzi. Che cos'è davvero il lavoro dello psichiatra e soprattutto perché questi termini ormai vogliono dire veramente poco? Sono termini questi che sono stati costruiti in ere di errori comunicativi che noi medici abbiamo fatto con le persone, questo bisogna dirlo molto chiaramente. Spesso dico che la colpa è sempre degli psichiatri. Ah ok, questa no. Un po' è vero perché abbiamo passato troppo tempo rinchiusi in roccaforti che erano i reparti, gli studi, gli ambulatori, le ASL e questo ci ha allontanato di fatto con la realtà della gente. E in quest'ottica si sono intercalati personaggi, guru, soggetti che hanno contribuito a una certa degenerazione sia della materia in sé, della psichiatria e del lessico che viene utilizzato. Quindi insomma, a quest'oggi è veramente importante provare un pochino a riscrivere non solo la sostanza della psichiatria, delle neuroscienze, della salute mentale, ecco usiamo questo. O anzi, lasciami dire ancora meglio, dell'equilibrio bio-psico-sociale che poi è quello di cui si parla. Quindi riscrivere tutto questo vuol dire anche iniziare a riscrivere il lessico che utilizziamo per riferirci ai disturbi mentali. Esatto. Certamente è matto, pazzo. È offensivo, no? È una schifezza. Sì, è estigmatizzante, diciamo noi. Poi certo io li utilizzo nel linguaggio comune, ma hanno a che vedere soprattutto con una sorta di imprecisione molto importante e grave, perché non è la psichiatria fatta di pazzi, di folli, ma è fatta di persone che sono affette da un certo disturbo e in questo senso la diagnosi è un aspetto molto importante. Pazzia, follia, eccetera, non è un elemento diagnostico, è una sorta di codice stigmatizzato di un comportamento, ecco sì, un'etichetta, ma becera. Becera. E tra l'altro io ho sempre avuto l'impressione che non solo sia una cosa discriminatoria, ovviamente, ma sia anche un po' il tentativo di allontanare da sé la tematica della difficoltà psicologica o psichiatrica. Come a dire noi sani siamo qui, voi siete lì, siete una cosa diversa, ma non è così naturalmente. La tematica delle difficoltà e dei disturbi psicologici e psichiatrici è una tematica trasversale. Tutti quanti abbiamo bisogno di questo equilibrio di cui tu parli, quindi forse è anche un po' questo uso di questi termini così discriminatori, così brutti e beceri come li hai definiti, forse è anche un tentativo di esorcizzare un po' la paura che noi abbiamo della difficoltà che ha a che fare con la mente. Per qualche motivo ci fa più paura rispetto alla difficoltà fisica, che poi fisica, la mente è fisica, ma rispetto a romperci un braccio, ecco, quindi abbiamo più paura e forse per questo discriminiamo le persone che invece hanno delle difficoltà come qualunque altra difficoltà che va aggiustata, insomma forse. Sì, tu cogli un punto realmente importante che è estremamente pertinente con la storia della psichiatria. Pensa che in epoca pre-farmacologica, in ere in cui la malattia mentale era veramente sconosciuta e purtroppo soprattutto non ci si poteva fare quasi nulla, la reazione della comunità alle manifestazioni psicopatologiche, alle intemperanze comportamentali di una persona, ad esempio psicotica, era quella di allontanarla, di spingerla via, fuori dal villaggio, no? Ed è in quest'ottica che sono nate molte leggende, molti miti, perché il pazzo veniva mandato nel bosco, allontanato dalla comunità e poi nel bosco sono nati streghe, stregoni, mostri, no? Ed è un... tutto questo è di origine chiaramente psichiatrico ed è legato all'allontanamento a cui ti riferisci, cioè persone che venivano mandate a morire in altri luoghi ma lontano dalla comunità. Succedeva anche ad altre persone perché non solo gli psichiatri erano in ritardo, no? Anche chi agonizzava, anche chi urlava. Non so se avete mai visto un film che si chiama The Beach, con DiCaprio. Certo. Ecco, lì c'è una situazione antropologica tipica, il sofferente che stava per morire, che urlava, che agonizzava, a un certo punto risultava intollerabile alla comunità di riferimento ed è stato mandato via, è stato portato in un bosco e lasciato lì. Beh, questo è un po' il prototipo di cosa si è fatto in passato con chi soffriva a livello psichico e fisico. E tra l'altro qua mi viene subito una domanda, cioè è evidente che dal punto di vista umano allontanare le persone in difficoltà è una cosa vergognosa, distopica, un orrore. Ma dal punto di vista invece strettamente medico, quanto male fa l'isolamento? A chi invece già, perché te lo dico, perché a volte l'isolamento è appunto sociale, cioè la discriminazione, a volte però le persone che vivono uno stato difficile dal punto di vista mentale si auto isolano magari, no? Si parla molto anche di ansia sociale, di ragazzi e ragazze che stanno sempre più chiusi in casa, eccetera. Il covid ci ha mostrato come la solitudine possa fare male, veramente tanto male. Allora la domanda è chi ha una difficoltà mentale di qualunque tipo? Quanto male fa allontanarsi dagli altri? Perché noi siamo poi bestie sociali, no? Quindi il contatto per noi è importante. Sì, questo è uno dei temi caldi di cui mi occupo. Io mi occupo come mia super specializzazione dei rapporti fra lo stile di vita, di tutti gli stili di vita e la salute mentale. L'isolamento è un elemento che non è mai un dato di valore, non è mai un elemento, un vezzo o di una qualche utilità, no? Perché ultimamente gira anche il fatto che, beh, in un mondo così terribile, così ingiusto, irregolare, asimmetrico rispetto ai nostri bisogni, perché non isolarsi? Io cosa ci faccio in mezzo alle altre persone? In realtà questa non è la soluzione. In un mondo di questo genere la soluzione è cambiare, ok? Il problema è che tutti noi abbiamo grosse difficoltà a cambiare. Cambiare comunità, cambiare persone. Ognuno di noi ha un luogo in cui può stare meglio, ok? Perlomeno uno deve provare a trovare questo genere di luogo. Solitamente si tratta di un luogo metaforico che include non solo la concretezza del paesaggio, ma include soprattutto relazioni sociali. Ed è proprio questo il tema. La ricerca di buone relazioni sociali è fondamentale. Certamente la malattia mentale ha come risultato più immediato, spesso stereotipato, spesso cortocircuitario, quello dell'isolamento. Bene, questo è un segnale che va sempre molto molto ben interpretato e preso assolutamente mai alla leggera, perché noi siamo persone che sono programmate. Abbiamo un'evoluzione tale che ci porta alla relazione con gli altri esseri. Non solo noi, ma anche con gli animali, con la natura, con quello che sta intorno a noi. Il nostro cervello è una macchina relazionale. Beh, negare questo aspetto poi porta a dei grossi problemi. In realtà, ripeto, non è che una persona deve legarsi a luoghi o a persone che non gli piacciono. Esatto, che non gli piacciono. Questo è scontato. Lì però entra un altro elemento che è veramente il punto importante dei discorsi che poi porto avanti sui miei canali, eccetera, che è la possibilità avere la versatilità tale da poter cambiare. Cambiare anche in maniera radicale, questo è il termine. Cambiamento radicale. Fantastico. Tra l'altro qui stiamo lentamente spostando verso il tema centrale di cui voglio parlare, che è proprio il benessere. Ma in particolare tu sai, Valerio, che io parlo agli studenti. Il 99% del mio pubblico sono studenti di tutte le età di scuola. Tra l'altro parli molto bene agli studenti. Grazie, grazie. Perché anch'io ho guardato molto in queste settimane. Sentirlo dire da un esperto vero è una grande soddisfazione. E però negli ultimi anni, nel mondo studentesco, il mondo universitario ma anche il mondo scolastico, il tema delle problematiche, delle difficoltà di tipo mentale è un tema che si è fatto sempre più forte. Cioè ci si è resi conto, perché non penso siano apparse dal nulla queste tematiche, ma ci si è resi conto che la vita dello studio all'università e a scuola è una vita che presenta delle difficoltà oggettive sul piano mentale da non sottovalutare. Allora, il primo punto su cui vorrei ragionare con te e di cui vorrei chiederti è perché? Cioè che cosa c'è nella vita degli studenti che produce molta, moltissima difficoltà? Noi vediamo costantemente studenti in grande difficoltà, vediamo studenti che si bloccano. Io stesso ne ho parlato con lo psicologo Alessandro Bartoletti, con cui ho realizzato anche un videocorso. Studenti che si bloccano, studenti che hanno ansia, paura, disturbi psicologici e psichiatrici in costante aumento. Cosa c'è nella vita dello studente che provoca questa difficoltà? Perché uno potrebbe dire sei giovane, non hai grandi responsabilità, vivi a casa magari con i genitori eccetera, la vita è bella e invece non è così semplice. No, non è così semplice. In realtà quello a cui tu ti riferisci riguarda in questo momento e ne parleremo pian pianino, tutta la popolazione mondiale. Diciamo che l'essere studenti, il prendere parte ai percorsi universitari, ad esempio difficoltosi, è un ulteriore elemento di stress, un'ulteriore sorgente aggiuntiva che va a completare un già grosso carico di stress che tutti noi umani abbiamo in questo momento. Le persone, quando faccio questi discorsi, la prima obiezione che mi viene fatta e sono convinto che molte persone ascoltando la faranno o la penseranno senza farla, ma accidenti, noi veniamo da centinaia di anni in cui c'era il problema di prendere l'acqua, farsi da mangiare, guerre pazzesche, ma cosa avete voi giovani da lamentarvi in questo mondo che è... Degli esami. Gli esami avete... Beh, le cose non stanno così, nel senso, a meno che non riteniamo che ci sia un'entità metafisica negativa che si sia impossessata in maniera horror dell'anima delle persone che in questa fascia d'età poi prendono parte a questi percorsi universitari o anche al mondo del lavoro, eccetera. Dobbiamo iniziare a immaginare che ci sia qualche cosa che non quadri in questa retorica del questo è il miglior mondo possibile. Questo effettivamente è il miglior mondo possibile per una parte della popolazione. Questo è corretto. Una grossa parte della popolazione invece non ha la sensazione di vivere nel miglior mondo possibile per varie ragioni. La prima è che siamo tutti portati piano piano nel corso della nostra vita a vivere esistenze stereotipate. Ok. Nel senso che anni fa, secoli fa, se mio nonno qua a Genova, no? Io sono a Chiavara in questo momento, ma sono di Genova, di originario eccetera. A Genova se le cose andavano male, se c'erano dei casini enormi, cosa succedeva? Le persone cambiavano, si spostavano perché sapevano che non sarebbe andato bene, probabilmente non sarebbe migliorato, no? Avevamo molti genovesi che prendevano, andavano in Sud America, a New York, facevano le cose più strane. Al giorno d'oggi noi abbiamo uno stile di vita che ci dà un minimo di soddisfazione, un minimo di input dopaminico, come si dice, il minimo per stare… Indispensabile. Diciamo, sì, il minimo indispensabile per stare benino. È vero che non abbiamo bisogno di mangiare, anzi vedremo che il problema nostro è tutt'altro della natura. Non abbiamo bisogno di fare un granché, infatti siamo tutti assolutamente non dediti all'attività fisica, ma in realtà abbiamo tantissime sorgenti di stress che non conosciamo. Quello che si è un stress nascosto, che è un argomento enorme a cui bisognerebbe poi dare spazio, insomma vediamo, in qualche maniera glielo daremo, connesso soprattutto alla perdita di versatilità. La perdita di versatilità è legata al fatto che siamo tutti, diciamo, ingranati in esistenze che non è facile cambiarle. Sono sufficientemente comode, ma non assecondano il desiderio profondo che gli esseri umani hanno di raggiungere dei propri sogni, delle proprie realizzazioni personali che sono tutte diverse. Ci sente schiacciati, schiacciati in un cubicolo. Siamo su dei binari da cui è difficile uscire, no? Ti faccio un esempio tipico, molte persone vengono a me e mi dicono, ma sì, ma io sto bene, non so, ultimamente sto male, ma non so perché, ecco, mi va tutto bene, ho un buon lavoro, la famiglia, non è così, non è così perché se uno poi va ad indagare quali sono le sorgenti di stress nascosto, mediamente le persone ne hanno tantissime. Tipicamente lo stress economico, no? Quella che io chiamo la giostra dell'indebitamento, no? Quella che parla a Chuck Palagno che in Fight Lab, compiamo cose che non ci interessano con soldi che non abbiamo per impressionare persone che non ci piacciono. Ecco, questo riassume la giostra dell'indebitamento che è sotto l'occhi di sociologi e di filosofi e di... Un consumismo che non porta a niente di... Bloccante! Io non sono contrario al consumismo, sono contrario alla perdita della versatilità, che è un'altra cosa. Ecco, qui in questo senso qua abbiamo stress economico, abbiamo stress relazionale, stress, appunto entrando nell'argomento universitario, connesso a un'ulteriore dimensione di blocco, nel senso che noi, volenti o nolenti, siamo in un contesto che deve essere affrontato in quella data maniera. Così, la strada è quella. L'università italiana funziona così, eh? C'è anche una retorica che mi verrebbe voglia un pochino di demolire che l'università italiana sia così bella e così fantastica. Ieri davo un'occhiata sul Corriere della Sera e diceva l'università italiana è solo nella lista delle migliose. No, non ci sono. Cioè davano una notizia proprio del cazzo, nel senso che l'università italiana, falsa, l'università italiana, la prima che il Politecnico di Milano è tipo al 139esimo posto, cioè prima di Dubai, non lasciamo perere, al primo posto ci sono gli Stati Uniti, la Finlandia, la Germania, la Francia molto più in alto, il Giappone, l'Inghilterra, no? Quindi non sono università costruite a favorire la diversità, la pluralità, le minoranze, la neurodiversità. Sono poco inclusive. Il tema della neurodiversità è fondamentale. La settimana scorsa ho ospitato una famiglia che ha appena aperto un'associazione che si occupa di bambini plus dotati perché hanno un figlio con una plus dotazione importante a cinque anni e si ritrovano in forte difficoltà perché la scuola, anzi le scuole perché a cinque anni non è ancora una scuola elementare ma prima la scuola materna eccetera, non gestiscono questa diversità e quindi e poi a scuola non ci sono gli insegnanti di sostegno, non ci sono i programmi alternativi, non c'è nessun interesse nel valorizzare individui che hanno delle modalità differenti di pensiero e di espressione. Cioè viene tutto un po' macinato in un tritacarne dove usciamo tutti uguali, no? Sembra un po' appunto distopico come ci vogliono fare con lo stampino. Ecco no che quindi esce fuori perché le persone non stanno bene. La vita non è assenza di problemi. La felicità non è assenza di problemi. La felicità è essere efficaci nel superare i problemi che la nostra esistenza ci pone. Questa è la felicità, non l'assenza di problemi. Ultimamente io vedo che molte persone si ritrovano caffianamente in contesti in cui non è possibile semplicemente superare in maniera creativa i problemi, ma bisogna in qualche maniera diventare integrati, come direbbe Umberto Eco, da apocalittici quali saremmo noi esseri umani diventare integrati e accettare tutta quella serie di plurime sorgenti di stress nascosto che abbiamo intorno a noi. E l'università è un potenziatore in questo senso perché è indubbiamente un altro elemento di blocco e di blocco in termini di versatilità. E inoltre lasciami dire per entrare poi negli altri argomenti perché lo stile di vita è costituito non solo dallo stress e dalla sua gestione ma anche da altre cose. Ti faccio un esempio. All'università se vuoi essere performante in qualche maniera non è difficile abbandonare ad esempio l'attività fisica. Ah è certo, succede spessissimo. No, molte persone all'università si sono rovinate, io ho visto cambiare, io spesso sono a contatto con gli specializzanti ad esempio in medicina. Medicina è una facoltà dura, è una facoltà che genera... Anche troppo se posso dire, cioè a volte è dura perché decidiamo di organizzarla nella maniera più dura possibile. Cioè sembra che quasi ci sia, nella facoltà di medicina l'impressione è che ci sia a volte un sottostante, un'idea sottostante di più li faccio soffrire e più verranno fuori tosti. Non so, c'è questa idea di fondo che bisogna punirli gli studenti di medicina. Ti ricordi Ale quella roba di quel professore che faceva fare le flessioni? Ti ricordi che gli specializzanti hanno una vita veramente non buona perché ultimamente poi si occupano anche di tappare i buchi che ci sono da un punto di vista dei medici strutturati, quindi è veramente un disastro. Per cui ripeto, in tutto questo contesto qua è facile che uno si lasci andare sul piano fisico. Non è infrequente che inizi a mangiare male. Mangiare male, ragazzi, guardate che non è solo una questione di pancia, di non pancia, di addominali, di girovita. Ha un po' di impatto. Certo, il cibo, quello che introduciamo dentro di noi in generale, ha un impatto fondamentale sulla performance cerebrale. Questo ormai non lo dice, diciamo, la mia zia, il consiglio della zia, mangia bene che pensi meglio. No, abbiamo studi, pacchi, tonnellata di studi clinici che dicono questo, cioè che se noi riusciamo ad avere una dieta intanto priva di sostanze tossiche, cose di cui nessuno parla, perché ultimamente io sento di quelle stupidaggini, cioè non so, ad esempio, nessuno è a conoscenza delle micotossine, no? Ok, io non ne so assolutamente niente, quindi se me... Guarda, ci sono cibi che sembrano in apparenza molto buoni, ma se provengono da filiere non certificate, non anche chiamiamo seriamente biologiche, eccetera, contengono all'interno muffe e funghi che possono generare micotossine, non so, forse avrei sentito il termine aflatossina. Sì, 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 certo. Queste sostanze sono, oltre ad essere neurotossiche, sono pure cancerogene. Quindi, ripeto, intanto alimentarsi in maniera da favorire la performance, quindi poche calorie, non troppe calorie, evitare cibi problematici, no? Come quelli appunto scadenti che possono contenere tossine, inquinanti, eccetera, eccetera. E inoltre fare delle diete che, diciamo, controbilancino tutti gli elementi di stress che sono presenti all'università, no? Sapete voi che il nostro stile di vita tende a far aumentare un parametro difficile da definire, adesso non nel momento, ma che si chiama infiammazione cronica di basso grado. Ebbene, ci sono delle forme di dieta che favoriscono il rientro di questo parametro, che è addirittura misurabile, che fa male al cervello, fa male al corpo, fa male all'affettività, genera addirittura, complica molte patologie psichiatriche. Quindi l'aspetto alimentare non è importante. E che alimentazione c'è per abbassare questo? Allora, ci sono varie scuole di pensiero. Probabilmente quella che ha una maggiore, diciamo, supporto degli studi clinici è, per fartela super breve, un'alimentazione che sia prevalente base vegetale, con utilizzo di proteine provenienti prevalentemente da pesce e da uova, ecco, per tirare la pochia ova. Meno carne rossa, basta invocarsi di hamburger. Sì, non utilizzare soprattutto insaccati. E poi un altro aspetto, ecco, collegato all'alimentazione, ma che in realtà la gente lo collega all'alimentazione, ma non c'entra un cazzo con l'alimentazione, è quella dell'alcol. Perché all'università scorrono fiumi di alcol. L'alcol è terribile. Per una ragione molto semplice, che le persone sono frustrate, sono sotto pressione e devono avere in qualche maniera un ritorno dopaminico. Quindi utilizzi alcol, utilizzano cocaina, utilizzano anfetamine. Adesso ne parliamo di tutta questa bella roba qua. Ho fatto un video di recente sull'alcol dove il punto del mio video era, siamo tutti d'accordo che sbronzarsi continuamente fa male, ma in realtà gli studi ci dicono che anche il consumo moderato di alcol fa male. E non poco. Ragazzi, se trovate un medico che vi dice di usare alcol con modalità consapevoli, poi dicono moderazione, scappate, scappate, scappate. Ormai abbiamo studi, l'OMS, la World Health Organization ci dice che non è assolutamente un consiglio che un medico a posto deve dare a un suo cliente, a un suo cliente, quello di usare alcol con moderazione. L'alcol è se ne usi poco ti fa poco male, se ne usi tanto ti fa tanto male. Punto. Non c'è una dose sicura dell'alcol. In realtà tutto questo poi va contro con tutto l'ambiente intorno, con tutte le abitudini. Tutto il mondo ci dice che l'alcol è ok. dai genitori agli amici. Bicchiere di vino a pranzo. Esatto. Quindi in questo senso qua stiamo veramente mantenendo insieme un castello di carte che dovrebbe essere caduto molto tempo fa. Perché l'alcol, quando poi le persone dicono ma io sono stressato dei problemi, non studio, non ho focus, ok prima cosa che devi fare, togli l'alcol. Prima cosa. Subito, farla sparire. Subito. Se non riesci a toglierlo ragazzi, vuol dire che c'è un problema. Ok? Perché tutti sono tranquilli. Io quando una persona davanti a me dice ma io non ho nessun problema con l'alcol, non mi rompere le palle, no? Io dico va bene, sono sicuro che tu sei onesto in questa affermazione. Ti chiedo solo di fare una prova. Stai sette giorni senza bere alcolici e poi ne riparliamo. Eh ma no, ma pirati che c'è sempre una... Sei una cazzata. Se mi dici Sara, ma è sette giorni senza le bietole, ma io ci sto. Eh certo. Sette giorni senza usare questa tazza, io ci sto. L'alcol non è una sostanza come le altre. Ragazzi, l'alcol è una sostanza ad altissimo impatto, è neurodegenerativa, è cancerogena, molto cancerogena e inoltre tende a far sviluppare una dipendenza elevatissima. E infatti intorno a un grande marketing perché tutte le sostanze che danno dipendenza poi hanno un marketing, no? Dagli smartphone agli zuccheri, alla caffeina, altro punto su cui poi torniamo. Io ho una fortuna, io non so che cosa sia, però io sono la persona che conosco con meno tolleranza all'alcol. Io con mezzo bicchiere di vino mi sento male. Cioè mi dà proprio fastidio. Allora, i sintomi sono due. Mal di testa, subito mi gira la testa, oppure mi addormento di brutto. Cioè non riesco a bere una birra media. Io con una birra media sono completamente ubriaco. Non reggo proprio niente. Quindi non bevo alcol, non perché non mi piace, ma perché mi rovino le serate. Cioè se bevo una birra, poi devo andare a casa. E quindi fondamentalmente sono astemio perché sto male. La società ti direbbe, ma devi allenarti, accidenti, allenati. Pian pianino, poco alcol, finché poi non riesci anche tu a sbrozzarti seriamente. No, io non ce la faccio. Io bevo una Coca-Cola perché mi bevo una birra all'anno tipo... La Coca-Cola non è una sostanza... Fa malissimo. Che non ha effetti psicotomi. Allora, infatti, ecco qui, allora, adesso questa cosa si trasforma subito in una seduta dal tuo punto di vista. Io sono completamente dipendente dalla Coca-Cola. Allora, un tempo bevevo Coca-Cola in una quantità veramente tipo un litro e mezzo al giorno. E stavo malissimo, malissimo. Proprio ad un certo punto ho dovuto... Coca-Cola, scusa, mi intendi? La Coca-Cola normale? Inizialmente era quella normale. Inizialmente era quella normale. E sono stato molto male. Molto male nel senso che avevo proprio dei bruciori allo stomaco devastanti e ho smesso. Ho smesso di bere Coca-Cola per un po'. Poi è uscita la Coca-Cola a zero e quindi ho detto, ah, non ingrasso nemmeno. Oggi riesco a essere relativamente moderato, nel senso che ne bevo tanta, ne bevo una bottiglietta al giorno. Sono mezzo litro al giorno. Mi concedo questo mezzo e so che fa male. Lo so benissimo che fa male. Però vorrei chiederti che cosa mi fa. Perché so che fa male, ma non so cosa mi sta facendo di male. Esattamente. Quindi adesso è Coca-Cola zero, mezzo litro al giorno. Io ne bevo. Ti do una novità che tu sai, ma non vuoi dire, non vuoi accettare neanche con te stesso che esiste la Coca-Cola zero. Zero zero. Zero caffeina e zero zucchero. Ma non la caga nessuno. Nessuno. No? Perché è come dire... È per deboli. Eh sì, è come tirare il bicarbonato facendo finta che sia cocaina. Ti dicono che sei un coglione. Più di quanto se pipi la cocaina normale, no? Il succo è quello. Tu non bevi la Coca-Cola, tu bevi la caffeina. Fatene una ragione. Perché io non bevo il caffè, per esempio. Io non bevo caffè. Non è un problema. Non è un problema. Ci sono mille varianti sul tema. Vendere acqua zuccherata con dentro uno stimolante è un business pazzesco. In borsa è una delle azioni più stabili. Compra Coca-Cola che va sempre bene. Ok? Tant'è che addirittura c'è spazio per competitors che vendono acqua, zucchero e caffeina. Red Bull, Monster. Ok? Certo. Il punto cos'è? Il punto è simile a quello dell'alcol. La caffeina, ma in realtà è simile anche a quello dell'eroina, ragazzi. Io vi garantisco, vi garantisco, credetemi, conosco una persona che si farà 4 o 5 pere di eroina all'anno. Ok? Ve lo garantisco. È una roulette russa. Ok? È una roulette russa questa. Ecco, è proprio una roulette russa, ma vi garantisco che di per sé non ha un grande impatto sulla salute di questa persona. È ovvio che è una follia, no? Noi facciamo una cosa simile con l'alcol, col caffè, con altre sostanze d'abuso. In che senso? E non è un paragono azzardato paragonare eroina e alcol, ad esempio. Perché noi non abbiamo idea, come tu ci stai dimostrando, di qual è la sostanza che ci fa innamorare. Che dice la caffeina. La mia sostanza... La tua sostanza probabilmente è la caffeina. Ok? La mia sostanza è la nicotina. Io sono un ex fumatore. Ok? Se io prendo una sigaretta, una cazzo di sigarettina, fra cinque secondi scappo in piazza qua davanti e mi devo comprare assolutamente una stecca di sigarette. Ok? Non ti controlli, nemmeno se sai tutte le cose che sai tu. No. Perché io sono una persona che si è ritrovato poi a trovarsi in quella cosa. E le conoscenze, Alessandro, non è che siano d'aiuto. Perché questo si sta parlando di meccanismi che superano tutte le nostre conoscenze. Cioè ci vogliono anche quelle, ma poi è necessario fare dei passaggi per cui devi essere aiutato da persone anche esterne e nella mediamente. Ecco. Al contrario, cioè al contrario, allo stesso modo accade appunto per il caffè e per l'alcol. Quindi io non saprò mai a che sottotipo recettoriale appartengo. Tu dicevi bevo poco alcol, mi fa male. Bevo poco alcol, sei a posto. Non ti rende, come dire, bulletproof rispetto all'alcol. Perché ne ho un'altra. Sì, no. Però anche rispetto all'alcol, se tu fossi in un ambiente chiuso, continuativo, in cui ti rompono le balle tutti i giorni, beviene un po' e fatti questo. Puoi anche tu superare, manifestare un adattamento perverso e diventare anche tu una persona che beve alcol. Il succo di tutto questo è che noi esseri umani non abbiamo bisogno di queste cose. Ok? Non abbiamo alcun tipo bisogno di queste cose se le cose funzionano bene. Le persone, diciamo, confondono il contrario di dipendenza con sobrietà. Ok? Il contrario di dipendenza non è astensione, sobrietà. Il contrario di dipendenza è connessione. Ok? Questo ci dicono le neuroscienze più moderne. Cioè, se io non sono un dipendente, quando sono una persona connessa con l'ambiente, con le persone, con me stesso, con le passioni che ho, sperando di avere delle passioni, perché quello è un problema, io ti direi che tu sei abbastanza a prova di bomba rispetto a una dipendenza perché dai la sensazione di essere una persona appassionata, competente nella relazione. Questo è l'elemento più favorente la tua distanza dal mondo delle dipendenze. Probabilmente la caffeina la utilizzi come booster per spingerti ancora in avanti. E questo può essere un problema, ma... Per cui però se prendo la Coca-Cola 00 già starò meglio. Potrei provare. Se prendi la Coca-Cola 00 vuol dire che realmente non hai proprio alcun tipo di problema, a quel punto però bevi dell'acqua o ti fai una tisana come faccio io, mi faccio le mie tisane. Ci sta, ci sta. Però vedi che mi hai detto una cosa giusta, cioè c'è stato un periodo della mia vita. Io appunto, lo racconto sempre e fa strano raccontarlo per una persona che lavora parlando in pubblico, però io ho sofferto gravemente di ansia sociale. Molto grave, cioè per farti capire, non ero in grado, questo è il sintomo più divertente, non ero fisicamente in grado di parlare al telefono con uno sconosciuto. Cioè mettevo giù, non ero in grado di parlare al telefono. In quegli anni avevo una serie di comportamenti compulsivi di ogni tipo, con l'alimentazione, con la stessa, eccetera, eccetera. E evidentemente quando sono riuscito a superare quelle difficoltà sono stato molto meglio anche dal punto di vista dei miei comportamenti. Io ero diventato per esempio a un certo punto compulsivo con la palestra. Facevo una quantità di allenamento fisico quasi, me andavo due volte al giorno, sette su sette, perché in realtà ero palestratissimo, però non era una cosa sana. Lo facevo perché era un modo per in qualche modo dare un ordine alla mia vita che mi sembrava, ero chiuso in casa, tra l'altro avevo la palestra in casa quindi non dovevo neanche andare in palestra. Stavo a casa e facevo pesi tutto il santo giorno. L'ho fatto per anni questa vita qua. Non è una bella vita. È evidente quindi che probabilmente questi comportamenti peggiorano quando sei isolato. Eh sì, hai scoperto che sostanzialmente gran parte dei nostri disagi, i nostri malesseri, delle nostre agonie sono legate alla disconnessione, a questo aspetto, che è un aspetto al confine fra tante aree del pensiero umano, no? La sociologia, la filosofia, la psicologia, la psichiatria, il modo in cui stiamo nel mondo e quindi è molto importante in questi tempi avere informazioni, in questo senso sì che è importante, conoscenze in modo tale da evitare anche approcci medici, psichiatrici o psicologici anche troppo aggressivi e che escludano a priori alcune dimensioni dello stile di vita. Perché veramente non è improbabile ragazzi incontrare persone che non ci sappiano aiutare nella giusta maniera, ovvero che non sappiano suscitare in noi un cambiamento corretto, che sostanzialmente vuol dire più che innescare, che riprogrammare, no? Il nostro cervello significa fare emergere delle proprie nostre buone motivazioni personali al cambiamento, che sono diverse per ogni persona. Quindi, ripeto, essere laureati in medicina, psicologia, sociologia non è garanzia di essere... no, no. Anzi si vedono un sacco di questi medici, medici, panzoni, fumatori, veramente il top, obesi e fumatori, bellissimo. Oggi ne parlavo in un altro contesto e mi chiedevo, io personalmente credo che sia così, ma è giusto che il medico sia coerente? È giusto che chi predica bene, razzoli anche bene? Dal mio punto di vista sì, sinceramente. Io credo che il fatto di essere una persona che cerca di tenersi a posto sul piano fisico, sul piano alimentare, sul piano... perché poi abbiamo altri aspetti, il sonno, le dipendenze, le sostanze d'abuso, allo stress, a tutti questi aspetti qua di cui parliamo, credo che sia potenziante l'intervento che faccio con le persone. Ecco, mettiamola così. Certo, perché poi adesso io detesto, Ale, ti giuro, quelli che arrivano col camice e il fonendo e iniziano appunto, che poi non sono sempre... ma sia che anche se sono medici rompono i coglioni, perché ti fanno capire che c'è già in atto una manipolazione. Io sono il medico e tu, giù, paziente, muto, silenzio, l'autore... Ordine medico, che è il modo peggiore per suscitare cambiamenti positivi nelle persone. Ce lo dicono i libri, gli studi. Cioè, noi medici ordiniamo alle persone di prendere pillole e plotoni di pazienti non le prendono, dicendo ma sto qua è scemo, ma basta da piccia. Perché se non c'è anche qua connessione profonda fra medico e paziente, se non c'è una relazione, non si arriva da nessuna parte. Anche col farmaco più perfetto, anche con l'intervento terapeutico... Migliore. Più micidio... esatto, migliore non funziona. È terribile. Ma tra l'altro qui però mi chiedono in chat, poi c'è un sacco di domande, poi te le leggerò, però prima voglio fare la conversazione io, poi do voce alla chat, perdonatemi ma me lo tengo io Valerio adesso per me. Però ho visto una domanda che era puntuale, dicono ma quindi la caffeina, ma c'è una dose sana di caffeina oppure nel mondo ideale la dose sana è zero? Cioè, com'è che funziona? Allora, funziona in una maniera abbastanza semplice, come funziona con tutte le altre sostanze che mettiamo dentro. La caffeina non è una sostanza, diciamo, indispensabile, ok? Può avere alcuni studi che dicono che contiene polifenoli, sostanze antiossidanti, anti-stress cellulare, eccetera, eccetera, tutte queste robe da medici, ma in realtà abbiamo molte altre sostanze meno impattanti, non psicofarmacologiche, perché la caffeina, ricordiamoci, è una metilxantina, è una sostanza che ha dei recettori precisi nel nostro cervello che impatta su alcune strutture cerebrali. Comunque ha degli effetti, non è una cosa da poco. No, e oltretutto c'è un equilibrio, una finestra, come si chiama, terapeutica abbastanza labile della caffeina, per cui effettivamente un caffè, che poi un caffè non vuol dire una mazza, perché bisogna vedere quanta caffeina sui, che caffè ti fai, se ti fai una bomba, oppure... Poi oltretutto con tutta la caffeina che prende durante il giorno, quindi Coca-Cola, alcuni alimenti, perché il cioccolato nuovamente contiene sostanze che funzionano come caffeina. Altre sostanze, spezie, appunto, breadbull, abbiamo caffè, taurina, abbiamo caffeina ovunque intorno a lui. Come c'è alcol ovunque? C'è caffeina ovunque. Ma perché? Perché, ragazzi, la gente non fa business su cose che non funzionano da un punto di vista di dipendenza, che non diano dipendenza, tolleranza, la suefazione. Toglietevelo dalla testa, dovete svegliarvi. Se vai in cima al Monte Bianco, è più facile che trovi del vino o una Red Bull che è una bottiglietta d'acqua. Fidati, l'ho visto l'altro giorno. Ovunque hai sostanze d'abuso, zuccheri, caffè, alcol, droga, cocaina, qua ci metti un minuto. Ho sentito una cosa, ho sentito una statistica incredibile, tipo che il 60% delle banconote contengono tracce di cocaina. Una cosa, che cosa ho letto? Adesso sto sparando una statistica a caso, ma ho letto questo studio che diceva che un'enorme quantità percentuale delle banconote che girano nelle grandi città ha tracce di cocaina sopra, perché qualcuno ci ha sniffato. Sì, abbiamo i cacciatori di cocaina che sia sulle banconote, sulle acque reflue, sui piani, all'interno dei bagni, dei locali, c'è lì vai a fare Sherlock Holmes, cocaina la trovi ovunque. Ma infatti sai qual è il problema? Io l'altro giorno, io parlo spesso con ragazzi giovani, anche minorenni, facciamo gruppi, facciamo cose. Nuovamente torna il problema della coerenza è del dare il buon esempio. C'era qualcuno che diceva che al di là di tutta la nostra retorica, l'unico modo per cambiare il mondo è quello di essere noi stessi, degli esempi, no? In qualche maniera, nella nostra piccola. Ragazzi, diciamo ai giovani di essere retti, di essere ligi al loro dovere, poi abbiamo il Parlamento in cui ci sono pregiudicati, giudicati, condannati, ok? Abbiamo tutti che dicono non drogatevi e tutto il mondo si droga, cioè tutti che dicono ma no dai alcol e tutto l'esempio familiare, extra familiare, amicale, che invece ti dice bevi alcol perché lì ci si diverte. L'ambiente ragazzi vince sempre e questa è la verità, l'ambiente vince. Non pensiamo di essere più forti dell'ambiente perché poi ci prendiamo delle inchiappettate. L'ambiente vince. Noi non siamo più forti. E in università lo vedi, è perché poi dopo un minuto che sei dentro senti già la pressione di regole, di stili relazionali, di usanze, no? Di rituali universitari. Ti faccio un esempio che io ho incontrato. Che fanno parte di sta roba. Allora, tutti gli studi possibili e immaginabili su come funziona l'attenzione, la memoria, eccetera, eccetera, ci dicono che sbobinare le lezioni è la strategia peggiore che possa esistere. Cioè, è sbagliato. È sbagliato da tutti i punti di vista. Passiva. A medicina la gente si ritrova a sbobinare senza aver deciso di sbobinare. Cioè, semplicemente perché si fa così. Perché tutti dicono che si fa così e dici ma perché? Già ai miei tempi si faceva così. E voglio dire, cioè, non farlo. E ma tutti sbobinano. Eh, ma tutti si sbagliano e cosa facciamo? Cioè, però la pressione sociale, l'ambiente, vince. Cioè, se c'è un'usanza, quell'usanza diventa predominante. È nei muri. È nei muri. Non è solo. È ovunque. È incredibile. E pensate che in realtà non c'è neppure una logica di marketing precisa. Immaginate poi nel mondo esterno quando invece il marketing diventa, lo sappiamo bene, uno stile per stare al mondo. Quindi ci può essere un market etico, ci può essere un market meno etico, c'è un market criminale, ok? Fare in modo che i bambini piccoli siano ancora oggi, negli anni 2000, fra mille anni, penseranno che noi eravamo matti, psicotici anzi, usiamo la parola a fare sì che ai bambini dessimo chili di zucchero. Ma è come quando ero, io quando ero piccolo ci mettevano al sole, io sono ligure, quindi ci buttavano in spiaggia, ci arrossavamo di tutti i rossi, ah ah, tutti che si rideva. Minchia, ragazzi, io mi sono preso un melanoma qualche anno fa. Fortuna che sono in un contesto, l'ho beccato alvorno. In Australia, se fanno una cosa del genere, arrivano gli assistenti sociali e ti tolgono il bambino, perché pensano questo genitore forse essere matto. Esatto. Allo stesso modo, gli zuccheri, noi attuiamo dei cambiamenti nel sistema del reward. Tutto il sistema che permette di relazionarci in termini compensatori con l'ambiente, piegandolo, deformandolo tramite tante compensazioni dopaminiche eccessive, che sia zucchero, che sia iper esposizione al digitale, che sia caffeina. Perché ragazzi, io la Coca Cola, non so te, ma la prendevo già da piccolo. I miei me ne davano poca, però sì, però sì. Ecco, i miei che erano un po' prima me ne davano di più. Senti qua, io volevo aprire tutto il discorso sugli stimolanti, i nuotropi, ma mi hai dato un aggancio che io qui ti devo confessare questa cosa qua, perché oltre a essere una cosa utile per i nostri ascoltatori, è soprattutto una cosa utile per me. Io ho una, e lo dico senza purtroppo alcuna ironia, una grave dipendenza da social network. Grave. Cioè grave cosa vuol dire? Vuol dire che la prima cosa che faccio quando mi sveglio la mattina è fissare il cellulare, l'ultima cosa che faccio quando mi sveglio la seda è fissare il cellulare e peggio è lo stress. Io ho avuto un paio di mesi, due o tre mesi molto stressanti a livello lavorativo. Io letteralmente salto da un'app all'altra ogni volta che posso. Cioè se non sto facendo qualcosa, cioè voglio dire adesso sto parlando con te. Probabilmente nell'istante in cui cadrà questa comunicazione io prenderò il telefono e comincerò a guardare qualcosa. E quindi la mia giornata è cosa da fare, cosa da fare, cosa da fare, cosa da fare, in mezzo sempre solo fissare il cellulare. Quindi è un problema, comincio a sentirlo come un problema. Un anno e mezzo fa ero allo stesso livello, sono riuscito a stare meglio, ho fatto una settimana, sono andato in vacanza e non mi sono portato il cellulare. Quindi è stato traumatico e quando sono tornato stavo meglio. Adesso sono di nuovo a quel livello lì. Ci puoi un po' parlare di questa dipendenza dal maledetto telefono e cosa posso fare? Cioè cosa posso, sono veramente, tra l'altro sai da che cosa noto che è una vera dipendenza? Dal fatto che quando qualcuno me lo fa notare, cioè quando qualcuno mi dice ma sei sempre al cellulare, viene su una rabbia. Valerio ti giuro la voglia di mettere le mani addosso alle persone. Che cazzo fatti cazzi tu hai? Allora evidentemente sono rabbioso perché sono dipendente grave da questa roba qua. Come si esce da questo tunnel? Ok, questo è un tema che è talmente centrale, talmente importante nella nostra società che diciamo non è affrontato. È l'elefante nella stanza. Ha le stesse caratteristiche di altri problemi come ad esempio quello dell'alcol o dello zucchero, di altre dipendenze che ruotano attorno a dei business che sostanzialmente sostengono il sistema socio-economico mondiale. Ok? In questo momento qua non possiamo immaginare di perdere, non so, alcune di questi vantaggi perché indubbiamente ci abbiamo costruito sopra alcuni elementi di sicurezza per le persone, la medicina, l'emergenza, il modo in cui il mondo può... quindi ha degli aspetti che chiamiamoli buoni a cui non vogliamo perdere. Resta il fatto che così come diciamo la caffeina come lo zucchero, stiamo parlando di una dipendenza comportamentale che ha un tropismo incredibile nella mente degli esseri umani perché è connessa a tantissime piccole, tantissime piccole falle che ha il nostro SOT. Una di queste è connessa anche ad esempio alla consapevolezza di come è l'esistenza umana. Ora mi spiace entrare in un argomento un po' creepy e importante ma è anche così. Il cellulare favorisce in tutti noi quella che si chiama la diffusione patologica della nostra attenzione, il disturbo della diffusione patologica dell'attenzione. Su plurime sorgenti attrattori di attenzione e tutto questo ci toglie dalle palle la grande responsabilità personale che abbiamo nei confronti del nostro destino, della nostra resistenza, del fatto che dobbiamo morire, che abbiamo davanti la possibilità di avere un futuro di sofferenze, di cambiamenti che noi non vogliamo, ok? Se noi abbiamo un assorbimento completo su tutti i plurimi attrattori, perché ogni social media, ogni Netflix, YouTube, il browser, tutto quello che abbiamo in uno smartphone è un attrattore e quindi abbiamo un prosciugamento di una nostra capacità, di un grande superpotere che è la nostra attenzione, una capacità di focalizzarla, di mantenerla, di sfruttarla al nostro beneficio, ma gli esseri umani quando sono nel momento di calma, lo sappiamo tutti, noi dobbiamo confrontarci con i nostri limiti, col nostro destino, eccetera, eccetera. Ed è un lavoro che piace poco alle persone, perlomeno a chi non è un filosofo come Rick Duffer che ha le parole per, come dire, concettualizzare e ridurre ad analisi questa situazione umana. Ecco, questo è già di per sé un elemento che fa sì che tutto quello che attragga la nostra attenzione in maniera totalizzante possa essere utile all'essere umano. Inoltre, oltre a questo aspetto, chiamiamolo legato all'horror vacui, si chiama il termine tecnico, la paura di stare con noi in maniera consapevole. Sì, per me è terribile questa cosa qui, cioè non riesco a rimanere senza fare niente, ho perso completamente questa capacità, è terribile. Che è un pochino in effetti anche il principio di alcune forme di disagio mentale, quindi questo bisogna, certamente la risposta super breve è che le tecniche meditative sono una buona, una buona, una buona, un buon salvagente per questo. C'è anche un altro aspetto vero che i social media, specialmente per chi ha attività online come la tua, sono una fonte elevatissima di gratificazione. Ogni volta che clicco c'è un complimento, c'è qualcuno che mi dice che ho fatto un bel lavoro. Salgono le tue vanity metrics, quindi questo qua è una roba che non la trovi da nessun'altra parte, ok? Se tu hai una moglie, una compagna, un fidanzato, non hai questo genere di gratificazione, a meno che non c'hai una specie di geisha o qualcuno. Per carità, sì, almeno questo no, anzi la mia compagna è famosa per riportarmi coi piedi per terra, ed è giusto, è un valore enorme questo, perché sennò io figurati. Lavoraccio sarà, perché ti dico, ti ripeto, poi siamo tutti nella sua barca, adesso io faccio lo psichiatra, ma non pensare che io non abbia questa roba qua, cioè accesa, che faccia. Ne parlavo sempre con dei ragazzi, dei ragazzi, degli adolescenti l'altro giorno, ero io che avevo le peggiori metriche, ok, sull'iPhone. Quando ho aperto una volta, una volta ho aperto l'app che ti dice quante ore è stato acceso lo schermo e non l'ho mai più aperta, perché mi ha fatto paura. Ho detto che cazzo è questa roba, non voglio più vedere, c'era scritto tipo 15 ore e 40. Non voglio sapere, non voglio sapere. Quindi c'è l'aspetto della dipendenza proprio più classica. E come si esce? Meditazione l'hai detto? Allora, ti ripeto quello che ho detto prima, ma è un'affermazione talmente strana che scivola via, ok? Il contrario del fare una cosa che dà dipendenza non è il non fare quella cosa. Questo è un gioco di forza che solitamente vince la dopamina. Il contrario di dipendenza è connessione. Cioè, quello che tu devi fare, una persona come te che ha già una buona attitudine nei confronti del mondo, hai un passione che ti esce da ogni poro, eccetera. Non c'è dubbio. Dovresti probabilmente provare a comprendere, a esplorare quali sono le aree della tua esistenza in cui c'è minore connessione. Cioè, potresti lavorare meglio su questo aspetto. Perché guarda che anche la meditazione è qualche cosa che può essere appunto un salvagente. Poi certo, se la integri nel contesto della tua vita, diventa un cambio radicale, un cambiamento radicale. La meditazione può diventare un cambiamento radicale. Io la pratico da alcuni anni, mi rendo conto che mi ha cambiato la vita. Però molte persone inizialmente la utilizzano come un farmaco, ok? Quindi in maniera al bisogno, proviamo a vedere se stasera sto un po' lì, faccio qualche verso. Io l'ho provato, ma mi rompo le palle in una maniera, non ce la faccio, sto malissimo. Cioè, è una cosa che questo mi fa pensare che ne ho proprio bisogno. Però non riesco, mi rompo tantissimo. Guarda, devi trovare un percorso che non ti faccia rompere le palle. Devi trovare qualcosa che ti ispiri, che ti suggerisca soluzioni consone a come sei fatto tu. L'idea anche lì di forzare non è quella giusta. Anche magari banalmente frequentare e confrontarti con persone che hanno trovato questa soluzione. E soprattutto ragionare anche sul fatto che non tutte le forme di meditazione sono la stessa cosa. Non tutti gli approcci sono vincenti. Bisogna veramente avere anche, devo dire un po' di fortuna, così come con gli psichiatri, con gli psicologi, eccetera. Beccare la persona giusta. Sì. Che non è detto che sia uno psichiatra o uno psicologo. Guarda, io nella mia vita sono stato aiutato da tante persone, ma non me ne viene in mente una che fosse psichiatra o psicologo. Lo dico sinceramente. Te lo dico col cuore in mano. Quindi probabilmente devi sviluppare un po' di spirito d'avventura e provare a spostarti in qualche area un pochino più inesplorata della tua quotidianità. Io ogni tanto do dei consigli che sembrano delle follie, ma servono a hackerare un po' il sistema. Tu avrai dei percorsi, ad esempio, che fai a piedi, sempre quelli, il più efficace. Cambiare. Prova, sì. Fai il percorso meno efficace, fai quello che veramente non ti sarebbe mai venuti, forzati a fare una piccola cosa. Cambiamenti di questo genere, piccoli cambiamenti di questo genere, sono realmente l'inizio di una sorta di hackeraggio del sistema. E piccole cose, piccole cose sono, alle volte poi hanno grandissime conseguenze, proprio per effetto farfalla, no? La stessa, dal punto A al punto B che fai tutte le mattine, prova a farlo nella maniera più del cazzo possibile. Fantastico questo, è bella, bella questa. Provaci. Intanto grazie veramente del consiglio, ti farò sapere e comunque mi bombardano tutti, è palese che devo cominciare a meditare, me lo dicono tutti e tutte le persone che hanno i titoli per dirmelo. Quindi poi alla fine, insomma, è una cosa che sicuramente riproverò, ecco, questo di sicuro lo posso promettere, non so se resisterò, ma ci riproverò volentieri. Senti un po', apriamo il vaso di Pandora, perché abbiamo parlato di sostanze, caffeina, abbiamo parlato di alcol, eccetera, eccetera, nicotina, che sono tra virgolette normali, socialmente accettate, forse anche per questo più pericolose, ma c'è tutto un mondo che cresce nell'ambito studentesco, dei nootropi, gli stimolanti, le anfetamine, tutti quei supposti strumenti per aumentare le performance mentre si studia. Allora, uno dei video ancora, dei video più visti sul mio canale, il video in cui parlavo dell'adderal, e spiegavo perché non è una buona, non è una grande buona idea, però io dovrei chiedere onestamente, questa è la domanda onesta, esiste qualche cosa che davvero aiuti a studiare oppure sono tutte droghe che alla fine fanno solo che male? Cioè c'è una pillola di Limitless che io posso prendere e dire, ah cazzo, adesso sono, non so, non funziona un cazzo. Sai quella cosa pazzesca, che io ho parlato di queste robe a manager, colleghi medici, studenti, è una richiesta davvero, è una domanda molto, molto frequente. Ed è sintomatico che sia così, a mio parere, perché siamo in una società in cui nuovamente adeguarci a quello che ci viene richiesto è un obbligo morale. Negli anni 60 gli studenti spaccavano tutto, oh ragazzi non voglio dire di fare quello, però c'è stato un periodo in cui gli studenti veramente, e sono nati, voglio dire, cioè, personaggi tipo Bill Gates. Sì, non è che facevano schifo, non è che facevano schifo. Adesso abbiamo, la cosa che mi però, il primo punto che mi sento di affrontare con te, che è un po' il punto che affronto sempre, è che abbiamo persone che si vogliono drogare per stare meglio su dei binari del cazzo a cui non vogliamo noi stessi sottostare, no? A comportamenti che detestiamo e che non sono fatti per noi. È il contrario della droga, chiamiamola, dell'immaginazione al potere del 68, da un certo punto di vista. È questo che mi incuriosisce, cioè, vogliamo migliorare le performance al proprio come ci chiede il sistema intorno a noi, che è qualche cosa di curioso, strano perlomeno, perché i giovani mediamente nel loro DNA avrebbero dovuto... La ribellione, no? Ribellione, spaccare tutto, andate a cagare voi le vostre richieste, ok? Invece no, ci droghiamo per diventare più performanti, ma poi non performanti per, che ne so, per diventare campioni olimpici o perché abbiamo una start-up e vogliamo lavorare 24... Performanti per star dietro alle richieste di personaggi allucinanti, no? I boss, i professori universitari... Ecco, questa cosa a me un po' preoccupa ancora più della domanda che di per sé è un po' stradina, adesso poi vi rispondo. E' questo però che mi preoccupa, cioè, l'idea di utilizzare notropi booster per soddisfare bisogni che non sono i nostri alla fine, questo è un po' il punto... Ritorna il punto da cui siamo partiti, no? Cioè, siamo in una gabbia, questa gabbia ci fa stare male, però noi cerchiamo di fare in modo che sia la gabbia migliore di tutte. Guarda, è interessante questo esempio che fai della gabbia, perché tu forse sai chi è il professor Bruce Alexander, una persona degli anni... Ho sentito, ma non me lo ricordo in questo momento. ...degli anni 70, che aveva fatto un esperimento molto interessante, no? Che se tu metti un topolino in una gabbia, ok? Sempre poveri topolini, poveri animali, qualche animaletto in una gabbia, gli metti l'acqua e poi una soluzione con acqua e cocaina o anfetamina. In una gabbia vuota, questo topolino qua inizierà a richiedere anfetamina tantissimo, ok? Appena scopre l'anfetamina inizia a chiedere anfetamina. La vuole. La vuole, la vuole. Bruce Alexander ha fatto una cosa veramente geniale, a mio parere. Ha detto, ok, va bene, se un topolino sta in una gabbia vuota e qui si rompe i coglioni e non c'è niente da fare di bello, io credo sia normale che inizi a chiedere sostanze, no? Certo. Facciamo un po' un esperimento. Creiamo una gabbia che sia spettacolare. Lui l'ha chiamata Rat Park, no? Il parco gioco dei topolini. Bellissimo. Ha messo un sacco di tubi, di palline, altri topolini con cui chiacchierare, giocare, cibo, gente con cui fare l'amore, cose fantastiche. Vi garantisco che se questo esperimento che è stato replicato poi tante volte ha dato riprova assoluta che i topolini non hanno più alcun tipo di interesse per la droga, per gli stimolanti, ok? La perdono. È quello che dicevamo prima, no? L'esperimento del Rat Park è un esperimento di cui nessuno parla perché mette in campo un elemento estremamente controverso, cioè il fatto che il problema non siano le sostanze, cioè certamente anche le sostanze di per loro, alcune sono più pericolose di altre, ma il problema è la gabbia, ok? E quindi il sistema in cui viviamo. E allo stesso modo, come quando mi viene richiesto la pillola di Limitless, mi viene richiesto l'idea di essere performanti in una gabbia di merda, ok? Questo è un po' il succo. La risposta veloce è no, non ci sono pillole che facciano nel lungo periodo, o sostanze chiamiamole lungo periodo, abbiamo, ok, se tu prendi il metilfenidato, ok, insomma, l'aderal, quello che vuoi, hai la possibilità probabilmente per una sessione di studio di avere un lieve rendimento superiore, ecco, avrai più attenzione, avrai maggiore veglia, eccetera, eccetera. Ma quello che noi chiamiamo finestra terapeutica, che sostanzialmente è il bilancio fra i benefici e i rischi, comunque è a sfavore nel lungo periodo, ok? Ok. Nel senso che dopo un po' dovrai usarne di più, questa cosa ti diminuirà l'effetto positivo, chiamiamolo, dell'iperprocessia, dell'iperattenzione, per dirla, eh? E questa cosa qua va a perdersi. Come avviene col caffè? Ok, se io prendo troppo caffè poi performo peggio. Da buono non fa peggio, certo. Performo addirittura peggio. Quindi questo è un po' il problema, per cui abbiamo, non abbiamo ad oggi sostanze, o per meglio dire, c'è qualche cosa che ha un po' questo effetto, ma intanto non ve la vengo a dire perché mi sta proprio... Brav. Ma che comunque ha una finestra che non è così favorevole, ha molti problemi. Effetti collaterali, roba. Sì, sì, non c'è nulla che... Ma lo stesso Limitless poi, se non ricordo, non va a finire bene. Però lui alla fine riusciva a trovare il modo di dilazionarla, non si sa come, e diventava super ricco, super famoso. Film diseducativo al massimo. Sì, questa è la magia, no? Sono film diseducativi che parlano le persone in quella maniera lì che dicevamo prima. Cioè, parlarci in questa maniera, non parlano solo di pillole dei superpoteri, ma parlano dell'alcol. Quanti film abbiamo che la vita è fighissima in villaggi turistici dove stanno tutto il giorno a bere? Ragazzi, James Bond passa le sue missioni a calarsi Martini. che avete presente un agente segreto, vi garantisco che per prima cosa non berrà, ma manco niente. Se vuoi vivere, non bevi niente. Sei un po' paranoico e non bevi come una mazza. Cioè, abbiamo tantissime narrazioni magiche che ci insegnano strozzate. Strozzate e sostanze. Beh, per esempio, parlavamo prima della cocaina, no? Nella società della performance la cocaina diventa non solo uno status, ma diventa quasi una necessità, come viene visto. Io ho conosciuto persone che mi dicevano, ah, i ritmi di lavoro sono tali che mi faccio di cocaina perché devo farlo, perché sennò non sto dietro. Sì, dipende che lavoro fai. È un po' un alibi però questo. Dipende che lavoro fai. La cocaina è il massimo rendimento lavorativo, ce l'hai se sei in catena di montaggio. Ok, certo. Punto. Se tu sei un artista, fai i lavori creativi, eccetera, ormai abbiamo plurime storie, ma abbiamo anche i dati clinici, che la cocaina ha rovinato intere carriere. Il fatto di avere veglia, avere energia, essere frizzante, non c'entra niente col potenziare la dimensione creativa. Se io scrivo software e sto scrivendo software in maniera creativa, tutte queste cose qua avranno un buon risultato per un tempo limitatissimo. Settimane, massimo pochi mesi, poi svilupperai dipendenza e andrà tutto a quel paese. Ok? Certo. Quindi ti ripeto, se tu lavori in una catena di montaggio. Il camionista. Il camionista può darsi che... Vabbè, a parte che se ti fermano, se hai un incidente. Sì, sì. Vabbè, però capisce, quello è il punto. Stiamo parlando di persone che... Ma tant'è che la cocaina si sta diffondendo in fasce della popolazione molto più povere, in sottogruppi disagiati. Quindi non è più la droga dei ricchi. Insomma, ormai si miscela con anfetaline. Insomma, esatto. Quindi è un po' questo il problema, no? E quindi, ripeto, ti vedo frizzato. Sì, anche io mi vedo frizzato. Fammi un attimo controllare. Stoppo un attimo il video e provo a riattaccarlo. Vediamo se c'è un... Aspetta, aspetta. Per un attimo ho pensato che ti fossi proprio... No, 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 no. Io ti sento. Tu mi senti? Allora, aspetta che provo a spegnere. Ho spento un attimo la camera che magari ha... Anche l'altra volta mi aveva fatto una cosa del genere. Allora, vediamo un po' se riprende. Intanto l'importante è che... Intanto questa dovrebbe essere la... Ok, la webcam terribile, bruttissima. Ma vediamo se riesco a rimettere. Sì, 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 vediamo se riesco a rimettere. No, niente, la mia camera normale è abbastanza frizzata. Sei frizzata anche sulla web. Sì, 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 devo tornare così. Aspetta un po'. Eccola qua. Bruttissimo. Webcam marcia. Adesso così vedete la mia stanza con palestra, con di tutto di più. Guarda che a me piace un casino. Cioè, è estremamente più artistica. Affidati. Fantastico. Benissimo. Così, meno professionali ma sempre attivi. Mi verrebbe da cambiare anche la mia, ma adesso ce l'ho un po' troppo lontana perché facevamo un cambio scenico strepitoso. Fantastico. No, e quindi sì, comunque alla fine il concetto è che tutta questa roba non porta dei vantaggi a lungo termine. Cioè, i vantaggi sono... È una visione molto miope, no? Se ci pensi. Cioè, per dieci minuti siamo migliori, performiamo meglio. Poi c'era... Mi ricordo un passaggio. Si pensava, per esempio, questo era uno stereotipo pazzesco, si pensava che le sostanze fossero necessarie per gli artisti, no? Ricordo di aver letto il famoso libro sulla scrittura on writing di Stephen King. Strepitoso. Dove lui parlava della dipendenza e a un certo punto diceva questa frase veramente lapidaria. Lui diceva Ernest Hemingway, si diceva che Ernest Hemingway fosse un genio perché era un alcolista, invece era un genio ed era un alcolista. Cioè, le due cose non c'entrano proprio niente l'una con l'altra, anzi, forse era un genio nonostante... Allora, aspetta che mi si sta... Devo fare una roba... Vai, 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 vai. Mi si sta staccando la batteria... Aspetta. Che bella la diretta, ragazzi. Comunque, quindi questo. Cioè, il concetto è che le dipendenze non aiutano nessuno, di nessun tipo. Eccolo qua. Pensa che ho dimenticato di attaccare l'alimentatore del computer e quindi mi si stava scaricando. Beh, io ho perso la camera, tu hai perso il computer e siamo aperti. No, e quindi che bisognava accettare il fatto che la dipendenza da alcol, nel caso di Ernest Hemingway, non aveva nessun vantaggio dal punto di vista artistico, non c'era proprio niente, cioè, anzi... No, no, sono limiti, nel senso che c'è una parola che io detesto, che è biohacking. Ah, sì, sì, si va di modissimo. Come tutti i biohacker, eccetera. Ma perché la detesto? Perché c'è sottostante a questa filosofia, che in realtà non c'è una mazza di filosofia, cioè, diciamo, si dovrebbe parlare correttamente o di psico-neuroendocrino immunologia o di medicina funzionale, che sono le cose che sostengono, come dire, la performance reale dell'essere umano. E in ogni caso, noi esseri umani, e questa è una cosa che le persone che ci seguono dovrebbero per me portarsi veramente a casa, la nostra performance non va potenziata, va sbloccata, nel senso che quando noi diciamo che vorremmo performare di più, non ci rendiamo conto che abbiamo dei blocchi che abbiamo costruito nel corso del tempo che depotenziano le nostre funzioni, chiamiamole di base, che andrebbero benissimo. Esatto, se non le avessimo minate alla base con sostanze, stili di vita sbagliati, eccesso di stress, stress nascosto, dipendenze, il riposo notturno totalmente... Infatti adesso ci arriviamo, perché è l'ultimo argomento. Quindi, ripeto, il biohacker è vero, se sentite un biohacker che vi parla di togliere, e può essere un biohacker a posto, chi vi dice di comprare sensori, mille nutraceutici e bulletproof coffee, puttanate, scappate. La cosa del bulletproof coffee, cioè questi prendono un caffè lungo, ci sbattono un panetto di burro e se lo bevono, fa meraviglie per il tuo... Boh, a me sembra una cacata enorme, non so, si mangiano un panetto di burro. Sbattare con manager di azienda che mi hanno rotto il cazzo per ore con sto bulletproof coffee. A parte che è disgustoso, una volta ho provato, ha un sapore disgustoso, io il burro così, ma poi è una bomba calorica, una roba, cioè, boh, non lo so, veramente se ne inventano una, soprattutto in Silicon Valley, c'è sempre una nuova moda. Vedi, ad esempio, vedo una persona che mi è capitato, io perché ho una sorta di magnetismo su alcuni keyword. Certo. Droghe, alcol e psicofarmaci da bandire. Ok, ragazzi, bisogna che vi mettiate un pochino, vi armonizziate con alcune conoscenze prima di affermare delle cose, perché droga e psicofarmaci sono di un utilizzo diverso, sostanze diverse, alle volte sono la stessa sostanza, ma usate in contesti diversi. A cambiare non è droga, alcol e psicofarmaci, a cambiare è la consapevolezza e la cultura di chi li sta usando, ok? Ci sono psicofarmaci che possono diventare droga, così come stiamo vedendo, ad esempio, la ketamina, droghe che possono diventare psicofarmaci salvavita, se messi nelle mani giusti di chissà cosa farsene. Quindi bisogna cercare di non generalizzare e riuscire a trattenere la voglia di esprimere opinioni in campi che sono molto complessi. Io sono davvero decine di anni che provo a capire bene le cose e l'unica cosa che ho capito che ci fa, talmente tanta prudenza, cautela, attenzione prima di esprimere un parere. Esatto, lo dicevo perché poi è una cosa che accade. Adesso poi vediamo le domande del pubblico, però sì, questa cosa degli psicofarmaci, c'è molta gente contraria agli psicofarmaci. Io personalmente non ho mai dovuto prendere degli psicofarmaci, però conosco cari amici in cui si può dire letteralmente che gli psicofarmaci abbiano salvato la vita, quindi io non posso, cioè in particolare un farmaco… E' anche successo persone che sono state rovinate dagli psicofarmaci, ma il problema non è lo psicofarmac, il problema è chi lo prescrive, come lo prescrive, eccetera, eccetera. Io per esempio ho appunto avuto casi di amici cari, due, che hanno avuto, sono stati diagnosticati dei disturbi ossessivo compulsivi gravi, e senza la terapia farmacologica, cioè questi erano scatti di ira terribili, momenti, cioè cose, cioè prima di parlare, cioè io ho visto… e attenzione, questa è una cosa che mi piaceva dire, lo dicevo, uno di questi miei amici che ha appunto dovuto fare una terapia farmacologica, credo sertralina, non so se voglio dire… Sì, sì, può essere. Aveva il timore, diceva, di cambiare personalità, no? E io gli ho detto, no, ma guarda che tu sai di nuovo com'eri prima, cioè non sei cambiato, eri cambiato prima, cioè la tua difficoltà ti aveva cambiato, adesso sei la stessa persona che io ho incontrato dieci anni fa, quindi non è che ti ha cambiato, ti ha riportato a com'eri? Perché aveva degli sbalzi di umore, degli attacchi di aggressività incredibili e poi una serie di altri problemi. Questo ovviamente non voglio dire che evviva, pigliamoci di fisico farmaci, no, è nato da uno psichiatra, psichiatra prima di dare il farmaco tra l'altro a lungo, cioè non è che gli ha appena arrivato lì totti e la pillola, no, lunga, ha fatto psicoterapia, ha fatto un sacco di sedute, eccetera, e poi si è provato, provato il dosaggio con calma, cioè non è che, cioè a meno che uno non trovi un cane davanti, perché poi ci sono anche i cani, cioè prima di prescrivere una terapia con un farmaco, uno psicofarmaco, cioè vuol dire, non si dà la leggera, no, insomma. Certo, ma guarda, ripeto quello che ti diceva all'inizio, questa che tu porti una testimonianza molto interessante, molto toccante, però la colpa è sempre nostra, di noi psichiatri, nel senso che dovremmo uscire dai torioni medievali, ogni tanto ci arrocchiamo, andare, fare quello che stiamo facendo io e te adesso, no, cercare di stare in mezzo alle persone, esporci anche un po' coraggiosamente a critiche, a commenti puntuti, ruvidi, no, può succedere, ma tutto nell'interesse di far sì che le persone possano comprendere bene che cos'è la malattia mentale, siano consapevoli di quali siano i limiti e i vantaggi dei percorsi di cura e dal mio punto di vista anche entrare nell'ottica che oltre alla psicofarmacologia, alla psicoterapia e alla riabilitazione, un approccio molto moderno alla salute mentale è quello connesso allo stile di vita e alla lifestyle psychiatry, quindi è qualcosa che in alcuni casi è sufficiente da solo, in molti altri casi è un potenziatore degli altri interventi terapeutici presenti. Perché ovvio ci sono anche quelli che si affidano solo al farmaco, tu tieni questo, beccati l'oxanax finché non ti esce dalle orecchie e ciao, ovviamente è più complesso di così. Ecco, psicofarmaci sono diversi uno dall'altro, tu hai tirato fuori una benzodiazepina che sono farmaci che sono molto utili. Non la conosco, io so solo chi la prendeva, non so niente di che cosa facesse, però funzionava. Però sono farmaci che non hanno una risoluzione completa del quadro, sono farmaci a cui si può dipendere e per cui ecco esempio. Ma oltretutto Alessandro, poi la cosa pazzesca è che appunto alcol, caffeina, mille altre cose sono sostanze psicotrope e io ti garantisco che non trovi una farmacofobia così forte proprio come la trovi in quelle persone che sono dipendenti da sostanze. Cioè se trovi uno che si sta sparando eroina e gli dai tre gocce di un antidepressivo, no dottore mi cambierà totalmente. E nel mentre si fanno l'eroina ragazzi. Quindi ripeto, è una situazione questa che merita di essere un po' chiarita e possiamo farlo solo noi. Che bello. Senti, ultimissima domanda, poi andiamo sulla chat perché qualche cosa... Allora, devo rivelare, qui bisogna svelare gli altarini. Prima dell'inizio di questa live, Valerio Rosso mi ha dichiarato che dorme pochissimo. Allora, io questo, cioè io da anni porto avanti una battaglia con gli studenti che bisogna dormire di più, bisogna dormire meglio, cioè come la mettiamo col sonno, visto che tu ti occupi di benessere, di ambiente, di così. Il sonno è importante però, no? Dormire tanto, dormire bene è una cosa fondamentale per la salute e l'equilibrio, no? Sì. Allora, mettiamo i puntini su lei. Io ho dormito pochissimo. Ok. Io ho fatto tutte le cose in passato, ho fatto molte cose sbagliate in passato e mi hanno permesso di sentire in primis sulla mia pelle, il che non è sufficiente perché poi bisogna appoggiarsi agli studi clinici, alla ricerca, all'epidemiologia, però ho avuto modo di capire sulla mia pelle che cosa significa avere uno stile di vita sbagliato. Io in passato ho dormito realmente poco, faccio parte probabilmente di persone che hanno un ridotto bisogno di sonno. Sì, ce n'è una quante. Ci sono stati. Ce n'è una percentuale, diciamo, difficile dire quanta ce n'è perché è difficile da calcolare bene, però mi sono reso conto che poi ho fatto dei cambiamenti nel corso della vita rispetto al riposo notturno. A un certo punto pensavo di essere un gufo, come si dice. Quelli che in realtà andavano molto tardi e poi dormivano un po' di più la mattina. Mi sono reso conto col tempo, studiando anche, vedendo molte persone in ambulatorio, che non è proprio così, è sempre possibile modificare il cronotipo, chiamiamolo. Ok, certo. In realtà quello che faccio adesso io, prendendo ad esempio, visto che mi hai tirato in mezzo... Eh, volevo pungolarti adesso. Ecco, l'hai fatto perché adesso sono una persona effettivamente che non dorme tanto, però dormi in maniera molto particolare. Io tendenzialmente alle 10 di sera dormo, ok, stasera no perché dovrò fare delle cose, ma tendenzialmente alle 10 e alle 4 e mezza, 5 del mattino io sono sveglio. Oh, sei uno di quelli delle 4 del mattino, tipo coso, come sia quello lì, quello lì, che scrive i libri americano. Beh, ce ne sono Tim Ferriss. Sì, no, no, non ci sia. Uberman. Uberman, grande, certo. Quindi alle 4 e mezza, 5 sei in piedi. Sì, guardate che in realtà, da un punto di vista antropologico, questo è lo stile di riposo notturno più tipicamente umano, nel senso che, ad esempio, c'è un ottimo beneficio ad avere un'esposizione al sole alle prime ore del mattino. Sì, lo dici sempre. Esatto. Ma per una ragione veramente... Vabbè, dai, vi do un micro spiegone. Vai, 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 spiega, spiega. Però, vi faccio la versione veloce, noi abbiamo un nucleo che si chiama nucleo sopra chiasmatico, proprio al di sopra del chiasma ottico, dove si incroci i nostri nervi oculari, che riceve delle fibre speciali dalla nostra retina che non portano informazione visiva, ma proprio un'informazione connessa alle oscillazioni della frequenza della luce. Noi abbiamo una buonissima risposta, una buona sincronizzazione alla luce del sole, ok? È diversa la luce del sole rispetto a quella che abbiamo io e te in questo momento, quella digitale. Il nucleo sopra chiasmatico è una sorta di clock centrale, un orologio che poi influenza molti altri orologi interni, no? Che hanno a che vedere con l'attività pulsatile ormonale di alcuni neurotrasmettitori, eccetera, eccetera, eccetera. Fino ad arrivare alla pelistalsi, il suo sistema autonomo, cosiddetto, no? Bene, se noi abbiamo un'esposizione mattutina, facciamo attività fisica al mattino e abbiamo una buona esposizione a luce al mattino, questo genera veramente un sincronismo ottimale in questo clock interno che abbiamo. Ed è facilissimo cambiare cronotipo, ok? Il cronotipo è un elemento che si chiama epigenetico, non è scritto nel nostro DNA, è legato a come il nostro DNA si esprime, ok? Quindi noi nella nostra vita possiamo tranquillamente cambiare di cronotipo. Può non essere facile, può non essere… Io per esempio ci provo da tanto… ho sperimentato tantissimo col mio sonno, perché sono sempre stata una persona che sentì il bisogno di dormire molto, sentì il bisogno di dormire molto. Che non va male, tra parte. Non va male, no? Io tendenzialmente vivo bene quando dormo otto ore e mezza, quando ne dormo nove sono un po' rincoglionito, quando ne dormo otto ho un po' di sonno. Questo è il concetto. Io otto ore e mezza sono ottimali, il mio ideale nella vita è andare a letto a luna e svegliarmi alle nove e mezza. Questo è il mio ideale. Anche se è noto che… Al momento. Al momento, esatto. Però ho fatto molti esperimenti, perché io volevo essere uno di quelli che si svegliava prima la mattina e non sono riuscito mai ad abituarmi. Adesso per esempio da alcuni mesi mi sveglio alle otto e mezza. Questo però mi ha portato in inevitabilmente a fare la power nap al pomeriggio. Io comunque, io adesso quindi al momento il mio sonno è otto ore, vado a letto a mezzanotte e mezza, mi sveglio alle otto e mezza e poi mi faccio mezz'ora di power nap al pomeriggio. Ma se non faccio quella power nap, come per esempio il giovedì che ho la live, io sento che sono più stanco del normale. Cioè io oggi ho sonno. E quindi non mi sono veramente abituato, perché se mi fossi veramente abituato non avrei bisogno di, no, di supplementare il mio sonno col pisolino. Voglio dire, come si fa a cambiare il cronotipo? Come si fa ad abituarsi? Perché sarei il primo a volerlo fare, a svegliarmi presto la mattina. Certo, certo. È interessante perché le problematiche di questo genere sono davvero molto spesso simili. Io ho tantissime persone che mi chiedono questo. Il lifestyle è costituito da cinque pilastri, ok? Attività fisica, alimentazione, igiene del sonno, gestione delle sostanze d'abuso e regolarizzazione dello stress. Un'analisi del lifestyle di una persona richiede veramente tempo, ok? Bisogna esplorare tantissimi aspetti, in particolar modo nelle sostanze d'abuso, in particolar modo nello stress, in particolar modo nell'alimentazione, ok? Tutte queste cose qua contribuiscono poi a avere una sorta di interrelazione le una con le altre, ok? Quello che mangio centra con come dormo, l'attività che faccio, quando la faccio, come la faccio, che tipo di attività faccio, centra con come dormo. Le sostanze d'abuso, ad esempio la caffeina, cioè si dice cinque o sei ore, poi tutto va bene. No, non è esattamente così. La caffeina è un interferente per l'attività del sonno, non tanto perché interferisce nel momento specifico in qualità di stimolanti, ma perché può interferire con i clock interni del corpo. Oltre, tenete conto che il caffè è una delle sostanze che maggiormente, e quindi la caffeina, che maggiormente sono ripiene zeppe di micotossine, quella cosa che dicevamo all'inizio, ok? Cioè ci sono delle forme di caffè molto costose, in cui è delle filiere super controllate, ma il caffè che è dato a tutto il mondo, perché tenete conto che l'industria del caffè, della produzione e dell'erogazione di caffeina nel mondo è uno dei business più grandi che in questo momento ci sono nel mondo, ok? Ebbene, per garantire tutte queste fiumi di caffè, di caffeina, si utilizzano filiere assolutamente selvagge, ok? Quindi, e queste micotossine che sono almeno ci, vabbè adesso non vi sto a fare lo studio, questa roba, però c'è tutta una serie di micotossine che sono neurotossiche, desincronizzanti, danno problemi ormonali, danno problemi di fertilità, sono cancerogene, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è un problema che invito tutti ad andare adesso sul sito del Ministero della Salute Italiana, di cercare micotossine, ne parlano tantissimo in ambito accademico, nessuno si muove come accade con l'alcol per la ragione che ci sono realmente tantissimi, troppi business, troppi business. Quando io vedo la Red Bull con quelli che fanno sport estremi che si lanciano, mi gira il cazzo, li vorrei strozzare perché gli fa male. Sì, stiamo veramente usando acqua e sostanze che ci fanno male, coprendole di una, ammantandole di eroismo, di performance, di prestazioni, quando in realtà quello che dovete fare come esseri umani è togliere. Lasciate perdere di comprare le cazzate da biohacker, i bulletproof coffee, i miliardi nutraceutici. Sappiate che dovete essere motivati e consapevoli rispetto che la cosa migliore che potete fare nella vostra vita è togliere cose e poi fare qualche cosa che è veramente difficile in questa società così stereotipizzante è di cambiare in maniera radicale. Sono due, e sono tutte due cose gratis. Ma sai che tu, tu forse non lo sai, ma la mia mente, il mio cervello rettiliano da youtuber ha appena elaborato il content definitivo, Valerio. Tu hai detto che l'analisi del lifestyle di una persona richiede tempo e attenzione, che ci sono cinque aree, hai descritto le varie aree e che poi bisogna lavorare su, cioè questo è il video di YouTube perfetto, cioè Valerio Rosso che analizza il mio lifestyle, mi dice come cambiare, io che provo e lo documento su YouTube. Questa roba qui, cioè Valerio, facciamolo. Diamoci, diamoci veramente la... Facciamolo, è bellissimo perché questa, tra l'altro questo ha sia dei risvolti dal punto di vista della divulgazione del benessere, sia dei risvolti dal punto di vista proprio dell'esempio, no? Del far vedere, perché io sono molto interessato a questo. Tra l'altro adesso io ho compiuto 33 anni, ne faccio 34 adesso, incredibilmente da un anno a questa parte qualcosa deve essere scantato dentro di me e comincio a preoccuparmi del lungo periodo, del vivere a lungo, del vivere, cioè fino a 32 anni, immortale, a 33 ho cominciato a dire, cazzo sto diventando vecchio, bisogna che mi occupi, non lo so, è scattato qualcosa dentro di me. Vedi che l'horror vacui si manifesta, quando sei attaccato al telefono non ci pensi a sta roba. Esatto, aspetta che mi tolgo, aspetta eh, mi tolgo le cuffie che anch'io ho problema di cuffie, aspetta un po', accidenti, tu mi senti sempre? Sì, sì. Perfetto, aspetta che mi metto le cuffie. Dove le ho messe? Le cuffione? Me le sono perse. Niente, non ce l'ho. Va bene, allora metto il Claudio del computer, speriamo che non ci sia troppo riverbero, aspetta un poco. Eccolo qui. Eccolo qua. Tu mi senti sempre? Sì, benissimo. Io ho pensato che abbiamo fatto praticamente un videocorso per i tuoi... Ancora, sta live. Ce la possiamo fare. Comunque, il concetto era che, insomma, facciamo un bel content di di quelli... di quelli importanti. Eccolo qua. Vediamo se adesso funzia. Mi senti, mi senti? Sì, benissimo. Oh, adesso ti sento anch'io. Perfetto. Quindi, quindi niente, facciamolo, facciamolo. Adesso ci c'erano. Stavo dicendo che stiamo dando davvero tanto valore a chi ci sta seguendo in questo momento. Io ti ho già rubato per un'ora e mezza, però volevo dare spazio un po' a domande un po' dalla chat. Guarda che io sono veramente felice. Anzi, lasciami dire che casualmente proprio domani esce un mio libro in cui parlerò di tutta questa situazione. Giusto, l'avevamo detto. Mi sono completamente dimenticato. Avevo detto che avrei fatto pubblicità e marchetta selvaggia al tuo video. Facciamolo. Guarda, ne ho già tantissimi in prevenita, perché questi argomenti qua è davvero difficile trovarli qua e là sul web e soprattutto spesso si trovano divulgati da persone che non hanno diciamo le competenze e soprattutto l'esperienza e le ore di volo con altre persone. Faccelo vedere, faccelo vedere questo libro. Questo libro qua ha un nome strano, è PsyQ, perché poi diventerà proprio un percorso di crescita. Ed è un librone di quasi 600 pagine in cui riassumo e spiego fin nei minimi particolari queste tre cose di cui vi ho detto, cioè capire bene cosa significa malattia mentale, essere consapevoli di quali sono le cure in ambito psichiatrico, psicologico e soprattutto che le persone iniziano ad avvicinarsi alla lifestyle psychiatry, la psichiatria dello stile di vita che è veramente un aspetto... Sì, io credo che sia l'aspetto che veramente manca attualmente alla psichiatria per far diventare veramente efficace. Per fare un salto di qualità. Io intanto il libro l'ho prenoto tantissimo e poi cominciamo a parlare di come tirarne fuori del contenuto. Io quando trovo dei libri... No, però quello dobbiamo farlo, però lo facciamo in presenza allora a quel punto. Assolutamente, sì, ci vediamo e facciamo l'analisi del mio lifestyle, capiamo, perché ci sono palesemente delle cose in cui sono molto forte e delle cose in cui sono pessimo, no? Per cui mi immagino, se devo immaginarmi un grafico, penso che sia molto sbilanciato. Cioè ci saranno dei punti forti e dei punti molto deboli, quindi... Cioè il grafico del lifestyle è un grafico che si chiama Polare, non so se sei presente. Sì, 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 esatto, esatto. Quindi vedi veramente, hai la possibilità di capire in quali direzioni sei sbilanciato. Fantastico, questa cosa qui la voglio fare assolutamente. Anche se ovviamente la faremo in maniera discorsiva, però tieni conto che dovrò farti domande anche intime. Io sono aperto, cioè, assolutamente, cioè, ah sì, tra l'altro un'altra... Intime di vario, insomma, non solo di tipo sessuale. No, certo, certo, un'altra tematica che viene sentita dagli studenti sempre quando si parla della dipendenza dopaminica, si tira fuori per esempio la pornografia, si tira fuori la masturbazione compulsiva, ci sono tanti studenti, ogni tanto ricevo delle mail anche preoccupanti, nel senso, sì, ci sono... Ma ragazzi, perché anche cambiato, è sempre in questi ambiti qua, il problema molto spesso, come nel caso della caffeina, il problema non è il cosa ma il come, cioè la forma che ha preso la pornografia adesso. Ormai abbiamo dei content creator in ambito di pornografia che sono dei generatori di funnel pazzeschi che ci portano in situazioni, peraltro, realmente a dittogene, che generano di dipendenza, ecco. Quindi, ripeto, il problema non è la sessualità, il problema è come la forma che sta prendendo questo aspetto qua, ecco, mettiamola così. Ci sta, ci sta. Tra l'altro, vabbè, ci sono una serie di commenti anche sul fatto che questa modalità con cui si... Questa cultura che c'è nella facoltà di medicina porta a dei medici, insomma, anche... Cioè, questa è una domanda, l'abbiamo già toccato prima, ma te la... Di queste cose qua, vi garantisco, che fanno parte della medicina realmente attuale e contemporanea, non se ne parla, medicina, evidentemente. No, la mia impressione, e mi domando sempre questo, quando si progetta di fatto un esame, una valutazione o un sistema di istruzione, di formazione, si sta sempre selezionando qualcosa. E la mia impressione è che noi, all'università, ma in particolare nella facoltà di medicina, quello che stiamo selezionando non sono i migliori studenti. Noi stiamo selezionando la sottocategoria degli studenti che hanno due caratteristiche, una capacità di sopportazione dello stress maggiore della media e una capacità di studiare lunghe ore più della media. A mio avviso, però, questi due fattori non dicono niente di quanto bravo sei come medico. Cioè, non stiamo selezionando i migliori medici, stiamo selezionando le migliori macchine da esami. E non è la stessa cosa, però. Cioè, tu, quando crei un gioco, quando è proprio teoria dei giochi, ottieni un outcome e noi stiamo proprio selezionando duro e puro degli studenti pazzetti, delle macchine da guerra di studio. Ma queste persone, poi, chi dice che performeranno nel loro lavoro? Non sta scritto da nessuna parte, le due cose non sono correlate. È totalmente corretto quello che tu dici. Inoltre, ti faccio un esempio, a medicina viene scotomizzata completamente la più importante qualità che deve avere un medico. Certo. Dando per scontato che tutti siano competenti in ambito tecnico. La qualità più importante che un medico è la competenza relazionale. Cioè, la capacità di entrare in contatto empatico col paziente. Perché vi garantisco che se fai un test, l'USMLE, quello americano, di competenza, ChadGPT fa il culo ai medici. Ok? Certo. No, ma l'hanno fatto l'altro giorno. C'era su Madscape, hanno fatto un test. Cioè, ChadGPT vince versus human beings. Ok, vince. Ecco, perché? Dobbiamo pensare che se vogliono creare delle macchine, le macchine lo fanno meglio. Ok? Quegli aspetti lì... Certo. Probabilmente noi saremo aiutati dalle macchine a essere più performanti sul piano tecnico. Ma l'ultima reale competenza che probabilmente sarà sostituita per ultima, mettiamola così per essere pessimisti, sarà proprio la competenza relazionale. Esatto. E però qual è lo stereotipo del medico? È che è stronzo. Cioè, è lo stereotipo del medico che è stronzo. Tutti i medici non solo non sono efficaci, sono anche incapaci di prevenire, che è il vero primo lavoro che deve fare un medico. Ok? Il primo lavoro che idealmente dicono che il medico deve occuparsi è fare in modo che la gente non vada a lui. Esatto. Ok? La prevenzione è in questo momento veramente sottovalutata perché di fatto non è un business. Appena la prevenzione sarà un prodotto, cambierà probabilmente. Ad oggi non c'è un prodotto e in realtà all'orizzonte ci sono dei prodotti perché digital therapeutics, le terapie digitali sono appunto software che permettono di diciamo declinare la prevenzione nella quotidianità dell'attività clinica. Però fino ad ora non sono ancora in uso, infatti la questione della prevenzione, noi medici non siamo efficaci perché è questione di nuovamente favorire il cambiamento. Io faccio una buona prevenzione se sono in grado di suscitare cambiamenti strategici nelle persone rispetto a un certo problema di salute e allo stesso modo neanche come terapia sono efficaci perché se io decido magari giustamente che questa è la pillola per te ma se te la tiro con la fionda facendo lo stronzo poi le persone non la prendono e non facendo quello andranno a rivolgersi automaticamente a tutta quella pletora di fuffaguru, cazzoni eccetera che però ragazzi la colpa è nuovamente dei medici, è nuovamente dei medici perché se vai da un iridologo, da un che cazzo ne so cosa, quello quantomeno ti ascolta. E certo, veniva fuori questo discorso con gli ospedali omeopatici, gli ospedali omeopatici chiaramente non fanno niente perché ti somministrano acqua e zucchero chiaramente, però ti stanno ad ascoltare, ti chiedono come ti senti, si ricordano come ti chiami, ti chiedono della famiglia, ti chiedono… Sì che probabilmente sono efficaci, diventano terapeutici… E stai meglio, perché sentirsi un numerello, io non ho avuto mai niente di grave, però mi è capitato di dover andare in ospedale più volte, sentirsi veramente come ti senti quando sei alle poste, nel momento in cui sei nel peggior stato della tua vita, è una vera merda, cioè è proprio brutto, tu sei lì che stai male, che è il peggior momento della tua vita e ti senti come se fossi alle poste, quella roba lì è terribile, cioè psicologicamente ti senti veramente… sì quasi… è proprio brutto, brutto, umanamente brutto. È vero e ti chiedo scusa a nome della mia categoria perché questo è un problema enorme che ha la medicina in tutto il mondo e le persone che fanno medicina, quello che dicevi tu prima è una grandissima verità, diventi una macchina da esami ma fra prendere 30 in psichiatria e essere un bravo psichiatra c'è, vi garantisco, un universo di possibilità. Cioè per esempio adesso dirò una cosa provocatoria, volutamente provocatoria, noi facciamo il test a missione a medicina, c'è persino un corso dove aiuto gli studenti a prepararsi il test a missione, benissimo. Test a missione a medicina, il talk med famoso, si basa su studiare un casino di biologia, di chimica, cosa che io trovo relativamente assurda perché tu chiedi agli studenti di essere preparati su ciò che studieranno dopo, prima. Scusa ma se lo devo studiare all'università perché lo devo sapere prima? Cioè lo dovrò sapere e me lo devi spiegare tu. Detto questo, io per esempio qui lancio la provocazione, invece che il test di ingresso basato sulle materie metterei un test psicoattitudinale perché ho la sensazione che se tu sei uno stronzo il medico non lo dovresti fare. Poi questa è una mia idea, accetto assolutamente le critiche. Guarda, allora io questa idea l'ho avuta allo stesso modo, ti garantisco che c'è un problema, è un'idea che verrebbe giudicata antisindacale antidemocratica perché profilare da quel punto di vista viene considerato antidemocratica. Però il medico non è un lavoro qualunque, tutto sommato. Ma allora scusami, cosa bisognerebbe dire del lavoro del politico? Se non hai empatia... Dove c'è serietà, sai qual è? L'ambito del volo, i piloti. Lì non si fanno troppe menate, gli fanno culi come delle capanne, devi essere a posto, non ti devi drogare, devi essere in quadro, devi sapere le cose, eccetera, eccetera, eccetera. Tieni conto che io credo che un medico che funziona male possa paradossalmente fare molto più danni di un pilota che funziona male, perché nella carriera, no? E soprattutto c'è un aspetto che, chiamiamolo... Il famoso, sai, io sono vent'anni che faccio questo lavoro, sono trent'anni che faccio questo lavoro. Tu puoi essere che trent'anni che fai stronzate, non è assolutamente... A me è capitata, ovviamente non dirò in che scuola, non dirò... Ma all'inizio della mia carriera io facevo corsi nelle scuole, no? Ok. E qual era la mia specialità? Studiarmi la bibliografia scientifica sull'apprendimento e poi insegnare agli studenti come applicare queste cose per imparare meglio. E un giorno in questa scuola io facevo questo corso agli studenti extrascolastico, si avvicinò a un professore e mi disse... Guardi, io sono trent'anni che faccio il professore, le tecniche che lei insegna sono false e anche non fossero false, sarebbero errate perché l'ideale non è quello di far studiare meglio gli studenti, ma è di farli soffrire, perché è la sofferenza che li renderà degli esseri umani più completi. E se ne andò. Migoglioni! E questo insegnava a scuola, hai capito? E io dico, boh, a me mi pare un coglione, però cosa ti devo dire? Cioè, io avevo 23 anni, quindi io ho torto, ma anche avessi ragione, avresti torto lo stesso perché non devi aiutare gli studenti, devi farli soffrire di più, perché per citare una mente eccelsa, vedremo se coglierai la citazione, l'umiliazione è un veicolo di grande... Non so se hai sentito la polemica del ministro, che parlando di bullismo ha praticamente fatto passare l'idea. Sto cercando di non farmi intossicare da ste cose, quindi però... Però, insomma, questo signore... Allora, il ministro dell'istruzione e del mezzo, i bulli, i bulli bisogna umiliarli, perché l'umiliazione è uno strumento educativo e di crescita personale. Voilà. Cosa gli devi dire a uno così? L'umiliazione. Come l'umiliazione? L'umiliazione è la cosa più terribile per educare una persona, crea recidiva, crea allontanamento... Non hai mai letto uno studio, non hai mai... Niente, non sai di che cazzo... L'umiliazione, bisogna umiliarli, umiliarli. E la gente è tutta contenta. Bravo, è giusto, pugno duro, i bulli maledetti. E va bene, poi questa persona diventerà... Adesso è un bullo, tu lo umili, domani è un criminale. Cioè se tu, se l'umiliazione porta a separarsi dalla società, così diventi un disadattato e poi dopo... E via. Quindi l'umiliazione come veicolo di crescita, non so come la pensi tu, umiliarle le persone... La penso come te. La pensi come chiunque abbia letto un minimo di sociologia di qualunque cosa, cioè perché poi vabbè... C'è anche poi una quota di buonsenso, di sensibilità personale che ti fa anche intuitivamente immaginare che non possa essere una soluzione. Non può essere così, altrimenti, tra l'altro, lo stesso dialogo infinito, poi si va sul politico, ma io per esempio sono molto critico di come funzionano le carceri, perché le statistiche cosa ci dicono? Che le carceri sono dei luoghi terribili e poi la gente esce fuori e delinque ancora, perché tu li hai separati dalla società, cosa che tra l'altro, cioè se tu sei una persona che ha dei comportamenti antisociali, devi essere avvicinato alla società, non rimosso ancora di più, perché diventi ancora più antisocial. Per lì più ti fai vivere un'esperienza traumatica, terribile, violenta, eccetera, eccetera, quando escono cosa devono fare queste persone? Peggio di prima, ma per forza, cioè è quasi un'equazione matematica, però vabbè queste sono le mie idee, dopo mi danno del comunista. No, 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 sono condivise... Ma sì, ma guarda, io quando parlo di società di capitalismo, anche a me danno del comunista figurati, è una categoria che neanche contemplo, è semplicemente questione di appoggiarsi ai fatti, all'evidenza, a quello che succede. Andate a vedere cosa succede nelle carceri, quanta gente muore, si ammala, si suicida, ragazzi, perché quanta gente si suicida a scuola, si suicida nelle università, ricordiamocelo, questo è un elemento che è talmente macroscopico ed è sintomo di un fallimento assoluto di un'istituzione come quella, ad esempio, scolastica. Proviamo a dimenticarci delle carcere, a essere cinici, facciamo questo sforzo, ma almeno della scuola qualcuno dovrà occuparsene. E uno, certo, può tagliare corto, i giovani di oggi sono tutti fragili, sono dei deboli, ma figuriamo, cioè qua stiamo veramente raggiungendo dei livelli di, non so neanche io, di ignoranza, di analfabetismo funzionale, di cinismo. Ecco, cinismo tanto, cioè, ah beh, è come, è quasi, diventa quasi una cosa darwiniana, se sono troppo deboli per sopravvivere, soccomberanno. Non so, sentiti. Sì, no, qua intanto soccomberemo tutti, perché questo sistema qua se va avanti così, sono trentina d'anni, ricordiamoci che il clima ci schiaccerà. Ah già, tra l'altro quella è bellissima, vabbè. Senti, l'ultimissima domanda poi ti lascio andare perché questa live è infinita, ma tanto io andrei avanti all'infinito e ti ruberò tempo, verrò da te, faremo i video, eccetera. Sì, ma no, ci vediamo a Milano, siamo già d'accordo. Assolutamente, dobbiamo solo decidere. L'ultima domanda è questa, l'ho vista in chat. Vai. Cosa ne pensi del fatto che fenomeni di disturbi specifici dell'apprendimento, ADHD, dislessia, eccetera, eccetera, siano molto in aumento e, secondo diversi esperti, ci sia anche una sovradiagnosi, cioè ci sia anche un... ma anche, diciamo così, dando per scontato che ci sia un fenomeno di sovradiagnosi, evidentemente ci sono dei sintomi che vanno in quella direzione. Come mai, apparentemente, perché noi non lo sappiamo, è questo che ti chiedo, c'è davvero una crescita di questi fenomeni? Oppure siamo solo più bravi ad accorgiacene? O che cosa sta succedendo? Tu stai parlando di neurodiversità, neurodivergenza, quindi nel senso più lato del termine. La neurodiversità e la neurodivergenza ha una caratteristica molto importante, che è quella che è tanto problematica o meno problematica in relazione all'ambiente nuovamente circostante. Certo. Ok? Noi stiamo costruendo intorno un ambiente che esalta alcuni tipi di performance, no? Performance ripetitive, molto precise e sostanzialmente indefinite in un orizzonte temporale, no? Catene di montaggio, l'evoluzione della catena di montaggio da alcuni punti di vista. Allo stesso modo, come viene costruita la scuola, ormai sappiamo che c'è un aumento di richiesta, ma su delle traiettorie totalmente inutili e non efficaci sul piano dell'apprendimento e dello sviluppo. Questo lo sappiamo non perché sia un'opinione, ma perché è un fatto. Sono persone che hanno indagato in maniera approfondita l'aspetto pedagogico e ce ne sono malte. Io invito a chi vuole approfondire questo tema a leggere Mario Gennari, che è un italiano, peraltro, che conosco anche bene. Al di là di questo, sono due gli elementi che portano acqua a questo aumento di percezione, di crescita dei disturbi, chiamiamoli, del neurosviluppo, neurodiversità, neurodivergenza. Il primo è che ci stiamo portando attenzione. Un tempo, dicevamo, quello lì è un cretino, ok? Meglio questo, meglio adesso che non prima allora, perché... Ecco sì, perché ripeto, c'erano situazioni veramente di grandissima sofferenza e non è che chiunque abbia una neurodiversità venga imbottito di metilfedinato, di fenidato, di adderall o di atomoxetina, non è così. Questo è nuovamente un mito, una fake news sul neuropsichiatria e la psichiatria. È molto importante accorgersene, questo è certamente un punto. Il secondo punto è quello che vi ho anticipato, cioè che è l'incontro con una società accelerata, iperperformante, totalmente digitalizzata. Ti faccio un esempio, un ADHD in rapporto a questi arnesi qua è veramente un incontro disastroso, ok? Queste cose qua portano quello che vi dicevo prima, un disturbo alla diffusione patologica dell'attenzione. Chi ha un problema di ADHD qua dentro finisce in un baratro senza fine, ok? Infatti la gestione di chi ha, non dico un ADHD conclamato, ma anche chi ha dei tratti di iperattività o di disattenzione che non configurano vari propri disturbi, rischia di passare nell'ambito del patologico, proprio per il contatto. In questo senso ritorno alla questione del cambiamento radicale. Molte persone stanno iniziando a pensare di allontanarsi da tutto questo, anche per ragioni terapeutiche. Ragazzi, guardate che c'è sempre un posto, un luogo, una dimensione su questo pianeta in cui noi possiamo stare meglio. Questo è un messaggio bellissimo, Valerio, bellissimo, perché c'è tanta gente che pensa che non ci sia un luogo per stare meglio. No, c'è sempre un posto, bisogna avere lo spirito d'avventura per andare a cercarlo, che un luogo non è fisico, è anche fisico, certamente tu hai provato che puoi stare meglio se stai in una dimensione in cui magari per prima non c'è lo smartphone, ma ripeto, essere connessi con gli altri, con l'ambiente, con la natura, con il bello, con la gentilezza, con delle dimensioni che sono parte integrante del lavoro di chi si occupa di psichiatria, perché se pensate che lo psichiatra si occupi solo di farmaci, avete sbagliato completamente. Ripeto, andate alla ricerca di un luogo in cui le vostre neurodiversità, le vostre neurodivergenze possano essere in realtà dei punti di forza, perché ci sono questo genere di realtà. Vi faccio un esempio, io ho vissuto quasi sette anni in montagna, in una valle cunese, in Val Varaita, e in questi sette anni ho visto persone arrivare nel paese dove abitavo io, che si chiamava Rore, arrivare persone che si erano proprio tolte da questa giostra su cui siamo un po' tutti. E magari per un periodo, quello che ho fatto anch'io in realtà, per un periodo più o meno lungo, o per sempre, uno deve immaginare di andare alla ricerca di una condizione socio-ambientale che sia favorevole alle nostre diversità. Perché poi è chiaro che ci sono degli aspetti, se uno ha un ADHD vero, sparato, non è che sto a farti... Esatto, va curato e ci vogliono anche dei farmaci. Ma c'è tutto il resto del mondo, diciamo, tutto quello che è fuori da questo 3,5%, ad esempio parlando di ADHD, che è un ADHD vero e proprio nell'adulto, che può avere delle manifestazioni simili all'ADHD, proprio perché siamo a scale di grigio, non è che c'è il sano e il malato, ok? Andate a cercare questo posto e abbiate lo spirito d'avventura e la motivazione per trovarlo. Questo è un messaggio meraviglioso su cui vado a chiudere, Valerio. Io credo, al di là delle informazioni nude e crude che tu ci hai dato, che sono di un valore pazzesco, penso che sia ancora di maggior valore vedere un professionista, uno psichiatra, qualcuno che lavora con la scienza e è a contatto con le persone, avere anche un ottimismo di fondo che è un po' bello da sentire. Cioè io credo che tante persone abbiano bisogno di questo messaggio, di sapere che si può cambiare la propria vita, non è facile perché nessuno dice che è facile, ma si può almeno tendere a cercare di trovare uno spazio nella nostra realtà che ci faccia vivere bene. Io veramente ti ringrazio di questo messaggio che è uno spiraglio per tante persone, perché vedo tanta negatività anche online, tra tanti anche che lavorano nel mondo delle scienze, della divulgazione, c'è molto pessimismo anche, invece sento da parte tua un messaggio veramente positivo, bello, che può aiutare le persone. Ho infinite cose che ti vorrei chiedere e che ti chiederò e di cui parleremo, sei un pozzo senza fondo, però ti ho rubato un'ora e cinquantadue minuti, quindi basta così perché sennò poi è rapimento e veramente grazie. No beh grazie di avermi accolto qua e spero che accoglierete anche la mia prospettiva e andrete a un po' esplorarle e vedere se si può innestare nella vostra vita. e a comprare il libro, perché sì, sai Q, raccomando, io lo compro subito, immediatamente. Su Amazon da questa sera, forse già adesso perché mi è arrivata una mail che è online. Mi hanno anche scritto alcune persone che già l'hanno preso, vedo in chat, quindi benissimo, quindi lo leggo, lo divoro senza alcun dubbio, quindi grazie, grazie, grazie Valerio, ci rivediamo ben presto. A presto, ciao a tutti. A presto, ciao a tutti. Ciao, 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 ciao.